sono di più ragazzi mi fate un segnale ci siamo ci siamo Jennifer Massimo Jennifer ragazzi mi fate un segnale ci siamo perfetto mi sentite me lo metto qua ragazzi mi fate un segnale ok ok adesso Marilu Lisabetti Lisabetti Marilu ragazzi mi fate sapere se mi sentite bene mi sentite ciao ragazzi mi sentite ditemi solo se mi sentite che facciamo la prova come di solito audio doppio audio doppio amore mio Luisa Luisa audio doppio c'è solo un po' di eco Agostino ragazzi ci dite adesso se posso iniziare no forte e chiaro ciao Valenti ciao Andrea dimmi Agostino Vincent Francesco Andrea ora ok allora volevo salutare per iniziare la mia amica Sara Sara di Laila Cosmetics sarà questa sera hot diglio la babila molto hot allora perfetto tutto ok ragazzi volevo ringraziare abbiamo fatto qualche giorno fa un live dedicato al volo alla mia grandissima passione tutto ciò che vola tutto ciò che si libera nell'aria per me è bellissimo è proprio la cosa più bella che c'è insieme al sesso diciamo no infatti quando uno si dice voglio mandarmi in aria volare col cervello andare via quindi volevo ringraziare due comandanti delle frecce tricolori ragazzi ci stiamo parlando di gente che fa paura due Filippo che mi hanno contattato e presto faremo un live insieme direttamente dal loro big center dove ci sono praticamente i mezzi che mi piacerebbe tanto guidare ma non è facile allora Filippo Barbero e Filippo Fontemaggi comandante capitano colonnello adesso che ce ne frega sono due amanti del volo sono dello squadrone tricolore ragazzi frecce tricolore numeri uno poi volevo ringraziare la mia pensate un po' per quel video quanta gente è tornata a farsi vedere il mio istruttore di volo secondo voi chi mi potevano dare a me per imparare a volare eh certo chi potevano darmi a parte il comandante il grandissimo amico mio di sempre a parte lui il comandante senigalliesi Giancarlo che purtroppo ci ha lasciato a parte lui Elena Elena è un comandante che mi ha fatto da istruttore di volo dico istruttore perché era tosta 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 mi ha chiamato per farmi complimenti lì è sempre a 118 vola con tutti i mezzi ed è pazzesca ha una bambina mi ha detto spero che diventi anche lei comandante come me pilota d'elicotteri pensate un po' poi mi ha contattato anche il campo di volo Ronco Briantino Squadron per darmi una sorta di di una sorta di qualcosa vogliono darmi perché sono molto appassionato del volo del volo dinamico e quindi li ringrazio ragazzi all'occasione vengo a trovarvi e vi faccio vedere come si guida un come si guida un mezzo che non avete mai visto prima perché sicuramente lo farò atterrare in maniera disastrosa a me piace molto volare ma ogni tanto ho degli incidenti e poi l'ultimo ragazzo che mi ha contattato sto parlando con lui questa sera perché cercava di vendermi il suo Airwolf Mauro Russo gli ho detto Mauro sono pieno di elicotteri non mollare il volo è importante per te Mauro non mollare se non ti fanno volare più con gli elicotteri mandali a fare in culo dammi retta con l'elicottero voli ovunque ok allora ragazzi tolta questa parentesi del volo che sapete io sono molto affezionato mi piace troppo stasera sarà un'accademia particolare parlerà dell'accademia ma darò tutti quei dettagli che l'altra volta ci siamo soffermati troppo sulla tecnica e su quello che aspetta questi ragazzi in realtà annullate tutto quello che abbiamo detto l'altra volta perché ci sono tante informazioni nuove che voglio darvi quindi tutte le persone che si collegano questa sera per l'accademia mi raccomando registrate annotate c'è una mail qual è la mail Lori me la dai c'è una mail unica registrazione hardacademy punto punto com gmail punto com quindi registrazione hardacademy gmail punto com l'unica 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 non scrivete su infogon sui cazzi vari perché vanno nel cestino registrazione hardacademy gmail punto com l'unica da questa mail verranno fatte delle selezioni allora ragazzi vi spiego subito ok molto chiaro l'academy old style non si farà non si farà più si farà un'academy tutta basata sulle informazioni che abbiamo c'è un'academy televisiva che è un'academy per Netflix probabilmente comunque è prodotta dalla tv ok quella è un'academy che dura un mese dove viene fatto un casting enorme quindi saranno sicuramente ci saranno tantissime persone che verranno probabilità di essere presi sarà un po' più difficile e complicato perché abbiamo ricevuto ad oggi quasi 500 mail per partecipare a un reality televisivo sull'academy dove in realtà ci saranno 15 persone di cui 5 donne ok quindi 10 su 500 ragazzi probabilità non tantissime però mai di sperare per quanto riguarda l'academy Rocco si freddi production si farà non stop però saremmo noi a scegliere voi ci dovete mandare più informazioni possibili foto per capire con chi abbiamo a che fare e soprattutto più roba abbiamo e meglio è perché sennò sarà complicatissimo non dovete pagare nulla ok questa è la parte più importante non si paga niente zero dovete arrivare a Budapest una volta che siete a Budapest ci pensiamo noi per una settimana vitto alloggio scuola ci pensiamo noi allora l'unico problema è che vi dobbiamo scegliere noi quindi dovete mandarci più informazioni possibili e soprattutto mandateci qualche foto almeno del viso e del corpo se non volete mandare foto nudi e cazzi vari lo capiamo la privacy non vi preoccupate almeno però con un intimo delle mutande per vedere come siete fatti se no diventa molto complicato si tratta sempre di un academy di natura hardcore ok non facciamo non facciamo fuiton come dicono i francesi cartoni ok facciamo roba diversa sesso ok questa sera faremo una piccola conversazione con dei ragazzi ispiranti attori o dell'academy o comunque sia vediamo un po' chi c'è perché non li ho visti e si parlerà però entriamo uno alla volta si parlerà un po' con uno un po' con l'altro stasera doveva esserci con noi anche il grandissimo Manuel Ferrara dagli Stati Uniti però purtroppo gli hanno anticipato la collo lui lavorava anche oggi con Jill Jordan in produzione e non riesce a liberarsi però ci sarà la nostra principessa the queen realmente la regina dell'academy l'unica 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 è solo lei Malena entrerà entrerà quando vuole lei quando vuole l'aspettiamo siamo qua e l'aspettiamo a cuore aperto ok ragazzi allora io vorrei però sapere se c'è anche qualche ragazza tra gli aspiranti attori e ha voglia di mettersi in gioco di farsi vedere io veramente ho ricevuto qualche mail di ragazza mi sono dimenticato a dirgli che stasera c'era c'era questa cosa molto interessante l'ultima e poi tiriamo un po' di ragazzi dentro ultima cosa che volevo dirvi da domani inizia la preparazione arrivano tutti gli attori per il nuovo film che sto per fare a Budapest un film molto 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 spero molto molto figo io so quando verrà figo il film lo so perché lo sento e ho deciso di soprattutto per voi per i ragazzi e le ragazze che vogliono partecipare all'academy di farvi vedere durante la giornata dei live ok quindi avremo dei live open sui vari social durante la giornata dove sono i dialoghi dove c'è un po' il set dove i ragazzi si preparano è un film sulla box quindi anche molto divertente c'è una storyline molto figa ci sarà tutta questa parte qua che sarà aperta a tutti quanti poi però continuiamo con live sul sesso e i ragazzi che vogliono vedere come ci si comporta sul set quante camere quante persone ci sono dietro le quinte la camera che riprenderà sarà dietro tutto quindi vi rendete veramente conto di quello che facciamo il film durerà dieci giorni e avete veramente la possibilità di vivere tutto ciò attraverso le telecamere purtroppo il porno come sapete il sesso esplicito non ve lo possiamo far vedere sui social ma su OnlyFan quindi se andate su OnlyFan e vi dico OnlyFan Rocco Siffredi giusto? Rocco Siffredi potete vedere da domani da dopo domani scusatemi da dopo domani i set hard in diretta quindi è diversa la storia non sono cose girate messe su OnlyFan ma in diretta lì subito quindi io direi che se volete si parte con l'Academy poi qualcuno di voi se ha bisogno di chiedermi qualcosa me lo scrive anzi ancora meglio ci piacerebbe che ci chiamate mi piacerebbe tantissimo ricevere una telefonata da qualche ragazza che ambisce a far l'Academy ragazzi far l'Academy non vuol dire per forza diventare porno star uno si può anche fare una settimana d'esperienza e poi dice impara l'hard e mettila da parte quindi non deve essere per forza magari uno pensa che il porno è divertente poi lo fa e dice a me non mi piace no pensavo che fosse un pelino più divertente oppure che figata it's my life if it's your life we can help you ok Anna Maria Protino che bel visino ok ragazzi io direi vogliamo iniziare a vedere qualche ragazzo uno alla volta li tiriamo dentro e vediamo un po' il perché e il per come let's go ciao 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 tutto bene mi metto le cuffie mi sono dimenticato ciao come ti chiami? Alessio piacere ciao Alessio Roma 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 eh? sì 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 vicino vicino Roma vicino Roma grande senti Alessio bella il tuo primo approccio sul nostro mondo oppure già hai provato a contattarci? no il primo completo approccio solo che il pensiero ce l'ho da un bel po' di tempo sarà almeno un anno e mezzo più o meno mi sembri molto giovane quanti anni hai? 19 stavo dicendo mi sembri molto molto giovane figo grande ce l'avevo da quando probabilmente stavo ancora ero minorenne cioè nel sesso è una cosa che piace davvero tanto quindi comunque è un pensiero che c'evo da un po' di tempo poi ultimamente ho guardato la serie su Netflix che mi ero perso un po' di tempo fa e immedesimarmi in ciò che hanno fatto i ragazzi è un'esperienza che mi sarebbe piaciuta davvero tanto ecco perché adesso vorrei provare hai una bella una bella attitudine sembri molto convinto e quindi stai studiando o stai lavorando? sto studiando ancora ah che studi? che fai? se posso chiedertelo? informatica indirizzo informatico top questo è sempre un lavoro che vista la tecnologia che va sempre più più sul complicato è sicuramente qualcosa di figo che volevo dirti che ti aspetti dall'Academy più o meno come te l'immagini come l'hai visto su Netflix o ti aspetti qualcosa di diverso? allora mi aspetto qualcosa un po' più tecnico perché magari Netflix mostra ma non mostra tutto quello che c'è magari in un episodio cioè c'è un episodio da 20 minuti però in realtà la lezione che tu spieghi non è solo magari quei 20 minuti che si vedono la puntata ma dietro ci stanno delle ore sì ore di lavoro ore di esercitazione e quindi penso non penso sia ad esempio solo una mattinata ma sia tutto il giorno ad imparare a migliorarsi e a fare a migliorare ciò che insomma l'agenda sta là no 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 è chiaro è chiaro quello che viene montato dura sempre molto di meno di solito il rapporto è 1 a 3 però in quel caso là è 1 a 10 nel senso che durava molto di più anche perché erano in tanti senti è bello bella ragazzi ecco vedete questa è l'espressione che ci piace 19 anni convinto tranquillo voglia di imparare sembri anche abbastanza tranquillo non sembri per dire un po' teso dall'idea di essere nudo con tante ragazze davanti a altri ragazzi no no non penso cioè almeno un minimo a immedesimarmi non non proverei quella sensazione tra virgolette di imbarazzo posso farti una domanda ma tu già hai qualche esperienza tipo in privato con la tua fidanzata a riprenderti o mai fatta? sì fatto però la roba tenuta comunque in privato no no chiaro io non parlavo di essere messa fuori però dico esperienza a filmarti a giocare con la telecamera sì in prima persona senza problemi è la cosa ti piace? la prima volta che è successo un po' cosina magari un pochettino mi sentivo a disagio ma poi abbiamo scherzato pure un po' su una risata dire l'altra e il resto andavo tranquillo senti fidanzata sei fidanzato in questo momento? per fortuna no no ma guarda che a noi abbiamo avuto dei ragazzi che sono venuti con le fidanzate o comunque con la fidanzata che al telefono me l'ha passata dicendomi Rocco mi raccomando rimandamelo migliorato quindi meno male dipende dalla donna che trovi dipende dalla donna che trovi vabbè quello ovvio grande ok io direi di far entrare the second one mettiamo un attimino in stand by ma solo per un po' va bene who is next? chiamare spenta? ciao eccomi ciao ciao amedeo amedeo tutti i ragazzi oggi proprio ragazzi giovani giovani ma quanti anni hai? quanti anni hai? io 21 21 21 addirittura sembri pure più piccolo eh no lo so sembro un 18enne sì eh è arrivato un nuovo Giordi ninja italiano è il nigno lo conosci il nigno? sì 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 è chi non lo conosce è chi non lo conosce di dove sei? Torino Torino grande 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 senti tu tu stai studiando adesso che fai? no adesso lavoro faccio il pasticcere pasticcere quindi sicuramente non moriremo di fare non moriremo di fare ah guarda se ti piace pasticciare io sui set ti darò il modo di pasticciare tra il sedere di malena le tette di di della smeraldina no se sei un pasticcere devi essere un buon gustaglio dai sì dai senti come poi vabbè ho fatto pure il parrucchiere quindi sempre a contatto con le donne su Star grande grande senti come è l'idea di fare il porno star? o l'accademia? ce l'ho dato un po' ti avevo sì 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 l'accademia avevo già provato a mandarti un'email nel 2019 solo che poi mi aveva risposto tuo figlio mi aveva parlato di prezzi altro e non c'era la serie ai tempi no quella era quella era quella se ti ha parlato di prezzi era mio cugino che ti ha risposto sì sì Gabriele sì no no mio figlio era mio cugino sì era lui che si occupava delle accademie infatti è proprio quello che dicevo stasera quando ho iniziato ho detto che l'accademia nella nuova serie non la facciamo più quella a pagamento facciamo solo ed esclusivamente o quella televisiva o quella prodotta da noi ma non facciamo più quella a pagamento perché riteniamo che sia complicato avere a che fare poi con persone che non conosci e preferiamo scegliere noi direttamente le persone con cui vogliamo investire diciamo ok ok va bene e mi dicevi quindi sì nel 2019 avevo mandato questa email poi comunque da quando ho 15 anni che avevo voglia di fare un po' di mettermi in questo mondo del porno e nulla poi sapevo appunto che avevi fatto una serie su Netflix la sono guardata e da lì mi sono incuriosito ancora di più ecco tu sei un ragazzo che ha tante esperienze nella vita sessuale cioè hai avuto tante tante esperienze nella tua vita e quindi nella media faccio il modesto faccio il modesto no no ma lo sai cos'è lo sai cos'è cercare di capire se anche da parte mia se ho a che fare con ragazzi che hanno avuto tante esperienze e quindi dicono perché no me la posso giocare senza problemi o il contrario non ho avuto tante esperienze e vorrei capire come funziona perché ricevo anche tante tante mail da ragazzi delle tatua che non hanno avuto ancora esperienze zero ah mi eh vabbè ce ne sono per quello te lo dicevo quindi tu come ti ritieni più ragazzo romantico o un ragazzo abbastanza estremo cioè ti piace la roba tosta o la roba un pelino più tranquilla tra la media e l'estremo ecco romantico non tanto cioè vabbè se ho una relazione naturalmente sì sono anche romantico c'è anche il lato romantico ti piace più Martina o Malena per capire cioè tu dovessi scegliere così adesso boom boom Martina perché mi sa di più Laida ecco non conosci bene Malena mi sa no no forse ho visto più video di Martina sì sì magari sì 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 no ma lei è senza remora zero e comunque non si imbarazza per niente mai senti va bene perfetto dai ti mettiamo due secondi in stand by e entra il prossimo grazie mille grazie mille grazie a te ciao Rocco ciao chi sei io mi chiamo Gabriele vengo da Roma ciao Gabriele quanti anni hai quanti diciotto diciotto anni oggi è l'accademy vera ragazzi è la vera accademy diciotto diciannove ventuno se non mi sbaglio giusto è incredibile anzi iniziamo con diciannove ventuno e diciotto speriamo che non chiamo un diciassettenne un sedicenne più tardi no scherzo senti quindi tu stai lavorando adesso vai a scuola io studio che fai aeronautico no grande ma hai sentito all'inizio che parlavo di volo ma adesso mi devi dire ti piace più il volo o o o o che ti piace di più è il porno eh il porno il porno era più che altro volevo dire il sesso le donne vabbè comunque in generale ti piace sicuramente a quest'età più a me non lo so ti dico la verità anche io sono come te ma il volo è la parte che devo dire che subito dopo metto il volo io tu quindi metti prima le donne e poi il volo che ti piace di più aereo o elicottero aerei aerei eh ma vuoi fare il comandante più in là o stai facendo proprio tutto militare avevo valutato l'autica però devo dire gli professori mi hanno fatto un pochettino passare la voglia perché perché eh diciamo c'è un pochettino bisogno della famosa spintarella eh bisogna studiare tanto 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 nell'aeronautica man è tosta eh è tosta però avrai grandissime soddisfazioni lasciatelo dire da uno che non ha voluto tanto anche come te no pensavo ti dico la verità secondo me se riesci a fare tutte e due a divertirti fan vieni anche a farti un'esperienza nel porno però non mollare il volo perché è fighissimo te lo dico da grande appassionato poi per l'amor di dio tu quando parli di spintarella parli del fatto che non riesci ad entrare nel eh sì abbiamo fatto anche diverse gite alle varie basi militari e comunque prendono pochissimi piloti lo so lo so è tosta è tosta è tosta bisogna darti una spinta io però mi astengo dal dare le spinte te lo dico senti e quindi tu stai ripiegando sull'idea del porno oppure sei convinto no io sono convintissimo convinto da molto che voglio fare esperienze tue sì abbastanza mazza ragazzi questa è la new generation vera stasera proprio super fan super strong senti così anche per capire un po' nella tua personalità ti piace di più la donna della tua età o una donna un po' più agé io facevo adesso Martina Malena ma puoi scegliere anche due altri nomi forse forse della mia età magari per abitudine per abitudine e la donna secondo te una come Malena ti potrebbe intimorire o ti potrebbe eccitare no no eccitare intimorire zero cioè tu non sei un ragazzo che si intimorisce davanti a nulla non è capitato grande bella personalità stasera siamo belli carichi grande mi fa piacere ok one or two second puoi aspettare un po' che prendiamo ancora un ragazzo veramente grande sorpresa ciao non mi dire che c'hai 18 anni perché non ci credo eh no io ne ho 41 grande come ti chiami? 41 magari riporto bene io sono Davide Davide? beh sì non c'è problema il nome Davide ok Davide Coldilana Coldilana la conosce la Coldilana? io se non sbaglio avevo capito che tu avevi fatto il militare a Cremona è possibile e secondo te perché ti ho detto Coldilana? se io ti dico Coldilana è la caserma del comandante Mauriello di Napoli mi ha fatto un culo così ragazzi è meglio che non vi racconto la storia di cosa ho combinato io a Cremona nella Coldilana mi hanno fatto mi hanno fatto fare un mese in più di militare tutti i miei amici andati via io sono rimasto un mese in più perché avevo fatto qualcosa di estremamente grave per quei tempi non te la racconto però te la racconto poi se più tardi me lo chiedete ve lo racconto senti a Cremona è 41 anni grande com'è che ti è venuta questa idea? guarda io stavo seguendo i tuoi video in Youtube dove trasmettiamo adesso sì io faccio qualche fotografia come passatempo quindi ho dato un po' un'occhiata ai video sono tornato sui tuoi seguendoli anche oltre Youtube diciamo proprio l'argomento porno io magari mi rilasso li guardo un po' per vedere anche lo stile fotografico grande e niente per completare quindi questo percorso di di tue comunicazioni io ho partecipato alla alla chat che hai linkato sotto e quindi ho pensato di di completare e venire anche in diretta ma come fotografo cioè tu sei interessato più al dietro le quinte o proprio a metterti in gioco tu in prima persona come attore? io preferirei dietro le quinte però anche come attore non non lo rifiuterei quindi saresti un ho aperto tutte le esperienze diciamo sia come attore sul set che come fotografo operatore sei bravo anche con la telecamera? ma quello mi piacerebbe io penso di sì ho fatto ho fatto qualche concorso internazionale ma non ho mai vinto qualche anno fa poi mi sono interrotto si è rotta la telecamera che era bellissima era una fotocamera videocamera e quindi io se ti devo rispondere sinceramente credo che potrei essere anche sufficiente diciamo dietro la telecamera hai mai fatto foto a donne nude? no quelle mai è una parte molto importante sai io immagino è una parte importante perché comunicare con una donna mentre si deve spogliare o riprendere una scena di sesso è completamente diverso da qualsiasi altra cosa per quello ti chiedevo e per questo se tu hai già delle basi potrebbe essere potrebbe essere interessante ma sì se ci fosse quella possibilità mi interesserebbe veramente guarda quella possibilità ci sarà sicuro all'interno di un di un casting che si farà a Roma però sarà legato a un casting per un'accademia televisiva come dicevo prima io bisogna passare da lì sì io personalmente ti dico la verità non so se lo riprenderemo magari nell'accademia a venire io per adesso mi interessa tantissimo e solo per ora concentrarmi su ragazzi che vogliono fare l'accademia ragazzi o ragazze ma l'accademia solo come attore lo scopo è l'accademia ovviamente sì solo come attore perché ti dico la verità il percorso di operatore fotografo è un percorso un po' parallelo non è proprio la stessa storia perché mentre facciamo quel percorso lì noi parliamo tantissimo di quello che succede davanti alla telecamera quindi fare il percorso con cioè dovremmo fare un'accademia a parte solo con ragazzi che vogliono fare imparare sono due cose diverse no ma ti tranquillizzo nessun problema io ho mandato anche la candidatura come dicevi all'inizio alla alla email se mi chiamassero io magari probabilmente credo che parteciperei anche come attore adesso vediamo poi come va esperienza nella tua vita come attore cioè a livello privato hai fatto qualcosa o nulla diciamo che io ho frequentato qualche centro massaggi io ho una mentalità probabilmente artistica quindi per me anche un massaggio orientale dove mi rilasso per un'ora penso che sia anche per me una cosa non estrema ovviamente come i video che si sono visti diciamo del tuo genere con tante ragazze però per me anche solo un massaggio orientale fatto bene di un'ora io lo considero un'esperienza abbastanza simile diciamo senza entrare nei dettagli però il massaggio con happy ending l'abbiamo provato tutti quanti no io parlavo di altro ma non solo io parlavo io parlavo di te con telecamera telefonino macchina fotografica che giocavi con la tua donna a filmarti io sono single sono eterosessuale ma sono single da qualche anno quindi io al momento ho non puoi praticare quella roba lì no non posso diciamo che ho fatto qualche selfie qualche selfie su sito su siti io ho due o tre account ma li ho li ho fatti giusto per partecipare a questo gioco perché vabbè mi sembrava corretto che se io seguo magari qualche video pornografico ci sono anche dei bei video storici di 20 o 30 anni fa che sono interi quindi io ogni tanto me ne guardo qualcuno e a loro ho fatto qualche selfie ma non esperienze con videocamera o fotocamera con donne quindi ti rispondo ok ok grazie mille se possiamo metterti in stand by qualche secondo facciamo entrare qualcun altro grazie mille who is next ciao non ti sentiamo non ti sentiamo ok si ora si ora si come ti chiami come ti chiami Luigi Luigi molto piacere Rocco ciao ciao Luigi da dove chiami allora dalla provincia di Genova ti chiamo grande quanti anni hai Luigi 26 quindi sono in linea con i ragazzi molto giovani tutti molto ragazzi top questa è la serata young anche l'altra volta avevamo un paio di ragazzi dell'età vostra però stasera veramente tutti quanti abbiamo dato il pienone sì pienone che fai di bello studi ancora o lavori lavoro lavoro sono un dipendente di un supermercato sono un commesso ma diciamo che questa vita mi sta un po' stretta diciamo vorrei qualcosa di più e tentare l'academy ci voglio provare esatto tentare l'academy è una grande cosa per me ma vorresti farlo tanto per cambiare un po' dal lavoro che fai o perché c'è una passione a priori cioè ci pensavi già da prima diciamo che proprio partiamo dall'inizio io sono diciamo nato con proprio il cazzo un po' in elezione e quindi diciamo che il primo film che ho visto è stato Malena quello televisivo che c'era e piano piano poi me li sono visti sempre di più e non mi sono mai lasciato perdere niente scusa un attimo qual è quello Malena televisivo Malena ha fatto un film porno che è andato in tv no non la Malena la tua c'è un film proprio un film televisivo che si chiama Malena Malena quello televisivo ho capito tu parli di Malena di Tinto Brass quello lì con l'attrice famosissima ancora non mi ricordo il nome è di Tinto Brass il film non lo sapevo credo che sia di Tinto Brass non voglio dire una cazzata però sì Malena probabilmente ha ripreso il nome da lei è quello che ho pensato anch'io esatto aspetta come si chiama l'attrice vediamo un po' se qualcuno lo scrive Monica Bellucci forse no no aspetta tu stai parlando di Malena con Monica Bellucci di Tornatore no non credo che sia quello là perché io so aspetta un attimo vediamo se la scrivono lo scrivono di un'attrice italiana è di Tornatore vedi Tornatore allora mi sono ricordato bene yes Carlo Di Donato c'è ragione Monica Bellucci Tornatore allora è vero yes insomma tu ti sei ti sei iniziato a masturbare sui film di Tornatore pensa tu Tornatore che cazzo dirà stasera che è l'erotismo vero giusto eh sì 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 per me che ero piccolissimo è stato veramente l'inizio diciamo poi ci sei stato te ci sono stati altri attori però diciamo che è una cosa che non mi riesco mai a togliere dalla testa poi come ora me la sto vivendo questa cosa qua diciamo che cioè mi confido anche se ci sono tantissime persone ma diciamo che ora mi sto vivendo la mia sessualità con l'escort diciamo è una cosa che mi serve ma allora tu stai vivendo la tua sessualità con l'escort perché non hai una fidanzata presumo eh diciamo che sì una fidanzata fissa non ce la dà molto tempo quello sì e quindi adesso per ovviare esci ogni tanto e ti fai una scopata a pagamento diciamo no? no diciamo che ci sono quelle buone che ho conosciuto con cui si ci vede molto molto frequentemente e quindi ah ho capito qualcuna dell'escort con cui ti trovi molto bene sì esatto esatto con cui ci sono state cose molto belle diciamo no no ma a volte a volte ragazzi a volte se ci si instaura un bel rapporto perché no perché no perché no l'importante è raggiungere l'obiettivo giusto? esatto la cosa peggiore è pagare e tornare a casa con diciamo alla fine senza aver neanche raggiunto l'obiettivo lì è veramente una rottura di coglioni o per la tristezza di dire sì che non ci sono non ci sono nemmeno andato con piacere non ne vale la pena vabbè tu sei un bel ragazzo comunque una ragazza secondo me te la trovi per divertirti mica devi per forza pagare sempre già fai il commesso che non credo che tu guadagni una cifra no? no quello è vero l'escort non è che costano pochissimo no? eh poi esatto quelle che vado a cercare io non costano nemmeno pochissimo quindi io ti consiglio e poi ci sono tante ragazze sui cioè adesso non mi ricordo quali sono i siti di incontri di incontri ma ce ne sono un bel po' sì Tinder Badoo ce n'è che cazzo li conosci tutti allora se sei nato sei sempre a cazzo duro se hai voglia di chiamare c'è lo stesso in versione femminile lì eh sono sono per più incontri eh di persona eh come come potevi dirti nella scorsa diretta mi piace andare al mercato conoscere eh ma anche in supermercato nel tuo lavoro un po' di ragazze le trovi no? che vengono basta essere carini simpatici difficile eh? esatto è difficile il suo lavoro è più difficile dai bisogna fare l'academy e ti ridiamo una settimana di con una settimana ti riprendi tre anni di vita te lo dico io se sei sempre se sei sempre duro come dici eh perché no quello di bisognerà secondo te davanti alla telecamera credi di poter avere qualche imbarazzo oppure l'eccitazione abbatte tutti i muri? eh bisogna provarlo non ti posso assicurare niente diciamo che è una cosa nuova sicuramente con le ragazze non c'è nessun problema però bisogna staccare un attimino la mente in quel momento allora ragazzi ragazzi come ti chiami? Luigi Luigi ha detto la cosa più importante dovete sapere ha detto staccare la mente che significa non dovete pensare a quelli che stanno intorno a voi o lì dovete pensare semplicemente che avete una donna davanti a voi pronta a fare sesso con voi sai come si fa qual è la peggior nemica dell'uccello Luigi questa è la domanda per tutti chi risponde per primo Lori dove stanno non ci ha mai tolto tutto spedivo profumo e chi risponde per primo eh la nemica dell'erezione prendimi il profumo sta qui il pensiero no no meglio che non parli perché meglio che lo scrivi perché tu hai dato tu hai dato l'input allora la Vale Valentina dice ansia la testa no 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 allora questo è original ragazzi eh original l'ansia no la vergogna no l'ansia la peggior nemica no no la mano la mamma la scorreggia no 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 ah no questa la dovete indovinare perché questa è veramente voi dovete l'odore voi dovete sapere no ma che odore l'odore allora ci può essere vi dico subito tutto quello che vi pare anche per dire l'alito che a me è la cosa che più mi dà fastidio faccio una tirata faccio chiudo bacio e poi vai insicurezza imbarazzo il cervello niente 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 ragazzi stasera siete un po' scarichi eh niente la puzza una donna troppo figa Fabio no magari il ciclo ma che ciclo mi ci faccio il sugo il pomodoro col ciclo che ciclo la depressione la famosa scarpetta la scarpetta ecco allora vediamo un po' chi i dolci ok se non lo dite se non lo dite se non lo dite se non lo dite mi dispiace perché non l'avete capito che si tratta di la peggiore nemica dell'uccello è la non l'ha scritto nessuno l'adrenalina la dre na li na e cioè quando voi avete quella botta di adrenalina l'uccello non si va non va su neanche se vi sbattete per terra per questo si dice cosa si fa bisogna calmarsi adesso qualcuno di voi l'ha detto calma ma per me serviva l'adrenalina la peggior nemica la calma è invece quello che bisogna avere per recuperare la soluzione ragazzi bravo quindi il profumo te lo becchi tu man è tuo ok mio? si è tuo alla grande si è stato tua poi ci manderai l'indirizzo te lo mandiamo Malena scrivono Malena il cortisolo ma che è euforia no l'euforia ragazzi è un'altra storia l'euforia è figo ho voglia di far sesso ho voglia di fare la scena l'adrenalina vi butta giù il cazzo in una maniera terrificante non lo sentite neanche se ve lo prendete in mano è come se avete un pezzo di carne buttato lì credetemi zialina praticamente adrenalina Barbara frittella ok c'era ragazzi tra un po' tiriamo in ballo la nostra Malenina voi avete capito più o meno cosa vogliamo fare noi dal punto di vista di di percorso o chi di voi ha visto l'Academy chi di voi invece ne ha sentito parlare chi di voi non non sa cosa facciamo almeno lo spiego bene una volta a tutti voi io l'Academy la serie l'ho vista tu hai visto la serie ok pure tu anch'io quindi l'avete vista tutti quanti io non ho visto io non l'ho vista su Netflix se ho capito che è andata in onda ho letto qualcosa diciamo nei motore di ricerca e qui su YouTube io non non la conosco ok allora vabbè tanto per tanto per fare un po' un po' di backup a quello che faremo diciamo che l'Academy che avete visto voi su Netflix è quella televisiva che però era stata fatta all'interno di un programma che era Chelsea Fredy quindi c'era metà vita mia e quindi nella metà della vita mia c'è il lavoro e quindi l'Academy non era la concentrazione tutta sul programma l'Academy l'Academy nuova sarà completamente diversa è proprio tutto legato solo ed esclusivamente al al mestiere di Pornostar uno dice voglio fare il Pornostar dove vado come faccio dove come devo fare e questa è un po' l'Academy quindi dalla da quando arriverete praticamente voi arrivate almeno lo sapete già arriverete e dovete ma proprio dal primo istante in cui è arrivata a Budapest l'Academy si fa a Budapest nei miei studi dal momento in cui si arriva a Budapest verrete praticamente in studio e subito prima cosa che si fa si porta che c'è allora vi si porta tutti quanti insieme al centro analisi perché la prima prima la prima cosa per fare il nostro lavoro bisogna assicurarci che tutti voi abbiate dell'analisi del sangue che oggi oggi il covid è la parte diciamo che è entrata a far parte delle analisi classiche però inizialmente c'è l'HIV gonorrea sifilide tutte le malattie venere classiche non facciamo lo screening di 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 un milione di cosettine quelle no perché non hanno senso però le 4-5 importanti così si gioca in maniera definitiva dove tutti sono tranquilli tutti quanti sono sani nessuno ha mai preso nulla su un set ragazzi questo è molto importante non ci si ammala sul set ci si ammala fuori quindi quando uno un attore si prende qualcosa è sempre perché c'è stato qualcuno che ha fatto il furbo fuori l'ha preso l'ha portato sul set e l'ha dato ad altri ecco perché si fa ogni due settimane non è il massimissimo della protezione ma bene o male tra professionisti ci si rispetta e quindi si cerca di fare molta attenzione tolta questa parte qui che è l'unica rottura di coglioni quella di andarsi a fare analisi del sangue tutti insieme poi si va tutti nello stesso laboratorio perché c'è qualcuno di voi che mi ha chiesto però come io ho le analisi me le ho portate le ho fatte a Roma a Milano a Torino non sono validi vi spiego perché perché nel passato c'è stato qualche furbetto che si è fatto le analisi al computer le ha portate e non erano vere erano finte quindi dal momento in cui voi siete a Budapest io devo garantirvi che è tutto a posto chi è arrivato? ciao ciao chi sei? mi chiamo Giuseppe sono venuto da Bologna ciao Giuseppe di Bologna? sì sono di Bologna grande ma ci hai ascoltato quello che abbiamo detto? sì 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 io ho sentito più quanto sempre io diciamo che guardo tutte le tue dirette grande grazie grazie mille quanti anni hai Giuseppe? ho 24 anni ok mazza tutti i ragazzi oggi è 24? vengo da Bologna ok stai lavorando Giuseppe? che fai nella vita? che fai nella vita? sono disoccupato disoccupato e come mai l'idea di fare il porno? allora perché da piccolo diciamo ero un po' come posso dire ho guardato i miei video ho cominciato a guardare dei video anche scanieri e piano piano mi sono un po' più evoluto in questa cosa quindi sei quindi ti sei appassionato al porno ma a che età li guardavi i video? anche a 12 anni ero più poliva 12 anni ok e poi mi sono tre anni fa mi ero fidanzato con una tipa una fidanzata e questa questa ragazza mi ha fatto le cosne e mi è andato con un altro ok diciamo mi ha messo le cosne e quindi ero stato un po' giù già un po' depresso e mi sfocavo tramite i porno diciamo guardavo i video e mi sfocavo per non pensare appunto alla tipa e dopo un altro tempo più avanti ho iniziato ad andare nei centromassaggi o comunque cinema o comunque tutte cose un po' di questo genere ma quindi tu stai facendo tu vuoi fare porno per una sorta di rivalza verso la tua fidanzata che ti ha fatto le corna no no tu di altro anche per una stimolo personale no anche per personalità no per crescere anche un po' mentalmente anche come persona per scoprire anche cose nuove o comunque cose che magari non sapevole no no ma è chiaro è chiaro è chiaro quindi comunque si è fatto già il tuo piccolo già c'hai un'idea di quello che è hai visto l'accademia tu su sì sì ho visto tutto ho visto anche 13 che io le prime puntate pensavo che sei andato via perché lui era un po' invece dopo mi ha stupito perché ho visto che ha capito e grazie anche a te poi ha fatto mai mollare mai mollare il grande 13 sì sì infatti ah ma è stato chiarissimo infatti mi è preso un calcolo grande 13 tu hai ascoltato tutto quello che abbiamo detto finora no sì 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 a parte che ha vinto il profumo ma perché tu la conoscevi la risposta sincero non la sapevo a te l'adrenalina secondo te ragazzi l'adrenalina mollare a parte tutto non voglio sembrare scemo ma l'adrenalina è quando ti prende quella roba che o hai paura terribilmente che ne so ti devi buttare ecco l'adrenalina è questa ti devi buttare per la prima volta dall'aereo quindi primo salto col paracadute oppure in tandem sicuramente in tandem io non credo che voi siete tranquilli che state lì fuori dall'aereo tranquilli adesso mi faccio sto saltino ci avete secondo me i testicoli che vi arrivano qua sotto quella è l'adrenalina e purtroppo l'adrenalina a volte succede arriva anche sul set ma anche a persone anche persone che hanno esperienza non per forza voglio dire persone che lo fanno per la prima volta credetemi e quindi è proprio una reazione del corpo è una reazione del corpo questa adrenalina e non si può fare niente sì è la reazione del corpo e come si fa a buttare giù l'adrenalina come hai detto all'inizio era il discorso con la calma con soprattutto cercando di trovare la calma vera serenità e io ognuno ha il suo metodo però ragazzi deve essere difficile indubbiamente sì però lo fai lo fai lo fai lo fai lo fai si impara tutto si impara insomma dicevo ora tu hai sentito quello che ho detto prima per quanto riguarda i test e tutto il resto per noi la cosa più importante è che voi state tutti insieme tutti tranquilli fan ci si rilassa e ci si diverte una settimana sì bisogna lavorare ma lavorare tra virgolette perché il lavoro è solamente cercare di ascoltare quello che è bene o male dicevo io e mio cugino Gabriele adesso non ci sarà più lui lo farò da solo e lo farò veramente come se lui fosse a fianco a me perché poi alla fine abbiamo sempre fatto questo insieme perché ci ci faceva piacere ed è per questo che cerco di di riproporlo perché mi sembra è come se fosse all'inizio avevo detto mi sa che l'Academy la mollo però alla fine mi sono detto che era sbagliato il messaggio non mi piaceva l'idea probabilmente al posto di Gabriele ci sarà Malena e altre ragazze che con la stessa passione la stessa mentalità ci faranno divertire vi dico perché ci faranno divertire perché l'Academy come voglio farla adesso deve essere assolutamente basata su un'esperienza di vita divertente e fun che non deve essere per forza solo porno ma può essere anche vita in generale come diceva Stefano il grande Stefano che io chiamo simpaticamente il pizzaiolo perché lui fa il pizzaiolo a Genova è delle parti tue c'era qualcuno di Genova prima ho visto sì tu è delle parti tue e quindi lui noi lo chiamiamo il pizzaiolo ma in maniera molto ironica è molto semplice in maniera simpatica e quindi voglio dirvi sarà un'Accademia totalmente ed esclusivamente legata al fan per una settimana poi durante quella settimana noi facciamo vedere tutto quello che non andrà mai fatto sul set cioè cazzate però dovete venire in situazioni in cui dovete magari uno non ci pensa però ragazzi siamo esseri umani le unghia crescono e magari uno si dimentica che ce l'ha un po' troppo lunghe toccate le ragazze le rovinate perché purtroppo quando siete davanti a una telecamera davanti a una troupe di 6-7 persone o 10 automaticamente ci viene un po' di tremarella quando tocchiamo le donne le tocchiamo non con calma ma un pelino così nervosi e io dovrò fare molta attenzione affinché voi sappiate tutti questi piccoli dettagli adesso vi sembrerà ridicolo poi quando venite a Budapest credetemi non è così semplice non lo è e per questo vi dovrò ricordare questo vi dovrò ricordare di prima di ogni scena bisogna prepararsi quindi lavarsi bene c'è tutta una serie di situazioni che sono diciamo di norma e che di solito tutti voi fate sono strassicuro però a volte sul set succede succedono delle cose imbarazzanti e vi dico quali sono quella appunto che dicevo prima del lavarsi sembra una cazzata ma può rovinarvi la scena se non altro tutto se una ragazza prima della scena voi siete appena stati al cesso perché magari vi è venuto ad andare al bagno e non vi siete lavati bene il sedere immaginate nella vita normale tutti noi non è che ci facciamo il bidet i francesi non ce l'hanno il bidet noi ce l'abbiamo ma non tutti noi siamo abituati a farci il bidet ogni volta che andiamo al cesso se ci andiamo tre volte al giorno e non dico a farla pipì il fatto di non essere pronti o di essersi dimenticati nella vita normale che succede nulla ma sul set sono cazzi fate delle figure di merda che non finiscono più perché vi spiego io no ma pensateci un attimo pensateci un attimo fate delle figure di merda che non finiscono più e tutta sta roba qua succede solo sui set porno cosa che nella vita naturale normale forse non succede dico forse perché non lo so però c'è Filippo dice in gergo vi dovete lavare il culo no ragazzi è una era un un dettaglio che purtroppo mi succede spesso e spesso e spesso di dover affrontare coi ragazzi quello che vi dico non è non è tutto estremamente scontato ecco qua poi partendo da questi dettagli insignificanti fuori da set su set sono poi i dettagli che fanno sì che vi fanno capire se siete bravi o no a fare questo tipo di lavoro e cioè quanto tempo resistete senza venire se le donne che sono davanti a voi sono così belle vestite sexy truccate magari avete fatto già sesso con donne così molto molto diciamo look da porno star vera quanto tempo riuscite a resistere non deve essere facile ci avete pensato ci avete pensato tre vi metteremo l'opzione POV una camera in mano vi dovete riprendere mentre fate sesso riuscite a comandare l'uccello e a fare delle belle riprese quattro vi metteremo questo tutto step by step vi metteremo in posizioni in cui siete in due uomini con una donna e vi potrebbe succedere potrebbe succedere sicuramente ma sicuramente succederà che lei vi succhia insieme se il vostro uccello tocca l'uccello dell'altro vi può dar fastidio quattro le doppie e triple penetrazioni riuscite a farle ma non è non è tanto riesco a farle riuscite a farmale vedere anche a me quindi sono le posizioni come farle e poi c'è un'altra miriade di roba che però è inutile che ve la spieghi adesso vi sto semplicemente parlando di quello che vi aspetterà quindi la mia domanda è ve l'aspettate così ve l'aspettate più semplice o ve l'aspettate in maniera completamente diversa chi è che vuole rispondere io ma io queste cose le avevo già messe ma vai parla tu tranquillo io io queste cose comunque le avevo già messe in preventivo che sarebbero capitate che accadranno sicuro quindi io mi sento pronto perfetto perfetto io tra l'altro a pensare di iniziare adesso sicuramente non sarei pronto però penso comunque con la mentalità che c'è adesso magari con un aiuto soprattutto da parte tua so cose che per superare tranquillamente sono pronto chi è che voleva parlare anche? se posso intervenire ci sono io vai allora io me la sono immaginata solo finché bisogna arrivare a Budapest tutte queste cose proprio non non riesco a immaginarme riesco sicuramente a immaginare che me la voglio vivere quello sì ok e anch'io me l'ero già immaginata perché l'avevi anche detto in una diretta passata che io avevo già visto e me l'ero anche immaginata di farlo al di fuori dell'accademia anche per provare devo dire sembra interessante come cosa che significa al di fuori dell'accademia? per esempio anche magari un qualche amico o c'è ah ok 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 fare una scena c'è una scena scusa avere un rapporto con una ragazza con un amico o una ragazza insomma in tre ti do ti do la mia opinione anche sinceramente io credo che non riuscirei con altri uomini col contatto e così però comunque la troupe non dovrebbe darmi fastidio ma altri uomini vicini al contatto dei peni addirittura perché ovviamente quello succede io potrei avere problemi te lo dico sinceramente problemi di non 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 segue diciamo la mia filosofia di una cosa di un atto sessuale altri uomini a contatto o a mucchiate però esiste ci sono anche persone che non hanno non hanno problemi a farlo io sono un tipo abbastanza solitario quindi potrebbe dare problemi questo è la mia opinione tutto chiaro tutto chiaro ma in realtà allora in realtà è vero che al pensiero è più strano che in realtà perché poi quando state sul set vivrete in un'altra dimensione è impossibile per voi capirlo ed è quasi impossibile per me spiegarlo però stare su un set vi fa entrare in una dimensione completamente diversa e tra virgolette siete in una dimensione talmente diversa che dopo un po' però questo ve lo poteva spiegare qualche ragazzo che ha fatto l'academy avere il vostro uccello in contatto attraverso la mano di una donna che prende un altro in mano e magari se le mette tutte e due in bocca ed è normale che all'interno della bocca si toccano è praticamente totalmente come se fosse un qualcosa che non è più un atto tra virgolette di pensiero il mio uccello sta toccando un altro ma non lo vedete neanche non lo vedete non lo sentite perché è tutta normalità cioè quando si fanno le doppie penetrazioni soprattutto le doppie penetrazioni vaginali o anali i due si toccano sono praticamente in parallelo devono entrare insieme come pensate che ci entrano due insieme se non si attaccano prima quindi però questo la domanda io ve l'ho fatta tra bocchetto proprio per dirvi succederà pure questo in realtà quando succede è come se non succede perché quando siete sul set tutti stanno lavorando in una direzione l'ultimo pensiero è quello non ci fai caso non ci fai caso no assolutamente non ci fai caso ma neanche un po' poi tutti i pornostari al mondo fanno posizioni e non c'è mai un pornostari che dice no io questa cosa qui non la faccio perché mi fa sentire così piuttosto che cosa se in realtà almeno rarissimamente io ricordo di qualcuno che aveva veramente grandi blocchi da quel punto di vista perché lo stai facendo per posizionarti per fare un film quindi è importante in quel discorso là ragazzi però io voglio dirvi se voi avete tempo so che qualcuno di voi lavora noi da dopo domani siamo live per dieci giorni di seguito un po' durante il giorno un po' la sera e sicuramente nelle scene tutti i giorni date un'occhiata dal set è molto importante perché capite l'attitudine come si vive sul set sono tutti attori professionisti quelli che vedete io lavoro nel set solo con attori professionisti poi l'accademia è diversa perché nell'accademia ci vengono a trovare i professionisti solo per farci divertire farci vedere come ci si comporta come si fanno le scene io mi servo di loro per spiegare a voi se non lo dovrei fare io dovrei farlo io puoi rivestirmi spiegarvi puoi rispogliarmi quindi lo faccio tutto attraverso loro è molto più divertente quindi dategli un'occhiata a partire da dopo domani durante la giornata poi magari con Lorenzo vediamo un po' come darvi l'ok sugli orari però più o meno già dalla mattina iniziamo con i live e sono divertenti perché sono autentici live di set quindi non c'è nulla di artefatto mentre nell'accademia un pelino d'artefatto c'è perché io devo spiegarvi come si fa quindi dovrò fermarvi farvi vedere voi fate qualcosa poi ritornerò vi dirò fai così piuttosto che cosa ok la continuità dall'accademy una volta che voi avete fatto tutto il periodo all'accademy io sarò sempre estremamente sincero e vi dirò a prescindere ci siamo fatti una settimana insieme ci siamo divertiti e tutto il resto però vi dirò vi dico da subito non prendetela come faccio una settimana all'accademy e entro a fare il porno stare il giorno dopo da volte uno studia tre anni cinque anni esce e non lavora figuriamoci dopo una settimana io posso assicurarvi invece che vi darò tutti i contatti possibili immaginabili per quella che è la direzione che dovete prendere poi sarete voi a decidere se avete voglia o no però sarò molto sincero quindi aspettatevi si continua oppure lascia perdere quello dicevo prima non mi ricordo come ti chiami tu che facevi aeronautica ragazzo di 18 anni si ti dicevo prima secondo me il porno deve essere sempre il backup il lavoro fan il backup non il primo ve lo dico ve lo dico veramente come se fosse il padre vostro avete tutti 18 19 21 24 quindi l'età è quella deve essere sempre il backup quindi non lo prendete come il lavoro primordiale e poi dovete sapere che in realtà tantissima gente oggi vive ma vi dico la sincera verità anche in un porno star vivono con OnlyFans che è diventato il contatto tra voi e il vostro fan è un contatto diretto quindi oggi potete imparare a fare porno e poi vi potete già da subito vendere per conto vostro questo è per farvi capire quanto sia cambiato tutto e quanto cambierà tutto secondo me fra 2-3 anni non ci saranno più neanche gli attori porno se tutto cambierà tutto sarà tutto ancora diverso sta cambiando in maniera molto 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 repentina ragazzi questo è quello che posso dire e quindi niente se avete qualche domanda da farmi fatemela voi così vi rispondo in base alle vostre diciamo qualcuno di voi che ha qualche domanda meglio farla subito sì sì io ne avevo una riguardo le spese di viaggio a Budapest sono a carico vostro o a carico nostro ti spiego tutto quello che è l'accademia che ascoltate bene televisiva voi non pagate nulla 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 l'unica spesa che avete è mandare materiale per il casting quindi se vi dovete fare le foto se dovete fare quello che sia per quanto riguarda l'accademia Budapest voi verrete selezionati da noi da qui da Budapest questa parlo della mia accademia sono due ben diverse anche in quel caso là non devi pagare nulla zero 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 però accedono solo quelli che vengono selezionati da noi quindi non è cioè molto importante perché io ricevo tantissime mail di persone che mi scrivono Rocco quando parto Rocco quando si fa non è che perché mi hai scritto sarai selezionato sicuro vi ripeto ci sono tantissimi ragazzi che scrivono quindi noi abbiamo bisogno di info poi decideremo poi adesso c'è il primo problema voi lo conoscete qual è il covid se a noi non ci permettono di fare l'accademia perché in Italia è zona gialla rossa blu non lo so quali sono i problemi in questo momento pare che si sta riaprendo un po' tutto ma qui è tutto chiuso qui non ci sono ristoranti aperti non c'è non ci sono i colori è tutto chiuso e per girare devi girare con un milione di rotture di coglioni di permessi quindi il problema più grande sarebbe portare 15 di voi dall'Italia a Budapest non abbiamo la possibilità noi dobbiamo lavorare con attori qui che sono in loco e magari sono attori internazionali che vivono a Budapest per questo riusciamo a farlo nonostante tutto dobbiamo avere i test covid di tutti sul set tutti devono essere siamo tutti insomma ipercontrollati quindi un'accademia oggi non la potrei fare tutti speriamo di riuscire a ripartire verso maggio aprile maggio tra un paio di mesi però insomma per concludere non dovete pagare nulla né da un lato né dall'altro l'unica differenza non è automatico che verrete a Budapest dovete essere scelti ma invece nel caso covid non migliori il covid non migliori le date per per l'accademia verranno spostate sicuramente sì sicuramente per forza sicuramente sì l'accademia è qualcosa che faremo e questo è garantito io spero io spero veramente che l'anno scorso l'estate era tutto open insomma non è stato così catastrofico io credo che quest'estate sarà sicuramente meglio dell'anno scorso la mia paura è solo quella che potrebbe ritornare di nuovo anche anche a settembre ottobre ma non la facciamo prima se io vedo che si riapre tutto io secondo me partiamo già ad aprile maggio con le prime accademie andiamo avanti almeno fino a settembre ne facciamo due tre al mese facciamo un lavoro molto molto forte ma tutta l'estate e invece le ragazze si sa già quali potrebbero essere oppure rimane un segreto aspetta un attimo vedo mio nipote Stefano Tano quanto si è bello si frega ma disgraziato deve essere Stefano saluta tutti a Parigi disgraziato e mio nipote e loro sono a Parigi si divertono no anche loro chiusi chiusi c'hanno il ristorante insomma dicevi scusami ti chiedevo riguardo le ragazze se si possono sapere oppure rimano segreto le ragazze le ragazze sì allora le ragazze c'è l'unica persona che posso dirti di garantito è Malena perché Malena praticamente sarà presente se non a tutte le accademie io vorrei a tutte però sicuramente ha un bel po' di accademie poi dipende da lei diciamo dalla sua disponibilità però sicuramente ha tante accademie poi verranno ci sarà un turnover di ragazze sicuramente tantissime ragazze sempre diverse sempre diverse sempre diverse però sicuramente avremo anche alcune accademie tutte made in Italy quindi vorrei avere ad esempio in un'accademia Malena Martina Sara Bell e se riesco anche Valentina Natti tutte e quattro insieme per fare un'accademia tutta made in Italy dove sia le ragazze parlano italiano che i ragazzi tutta in italiano sarebbe fantastica però non sarà facile perché se riparte cioè se il covid va via Valentina Nappi è una superstar e lei se ne tornerà negli Stati Uniti quasi sicuramente Malena è più disponibile perché Malena so che negli Stati Uniti non ci lavora quindi sicuramente avrò più possibilità di averla qui nell'accademia Martina vuole andare negli Stati Uniti Sara Bell si sta muovendo anche lì tanto ragazzi se si riapre tutti prendono il volo dobbiamo cercare di fare la made in Italy appena appena si può la prima diciamo comunque ci sono tanti comunque ragazzi io non so se voi conoscete un po' il parterre delle pornostar europee molto molto forti ma non solo europeo sono molte americane tra Budapest e Praga però voglio dire adesso in questa produzione c'è Cherry Kiss c'è Sibyl l'Ucraina bellissima c'è Verona Maxima c'è Natalie Gold ci sono delle ragazze fantastiche io per quello che mi riguarda per l'accademia dovete avere una serie di ragazze che sono veramente in contrasto con loro cioè non posso darvi tutte le stesse personalità per quello ogni volta devo fare un mix è molto importante molto importante ecco Luca scrive il sergente Bardot lei è stata veramente io credo che è stata la la pornostaria in assoluto più determinante per l'accademia è pazzesca 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 una domanda Fabio Anastasi la sergente Bardot vedi che sei ricordato dimmi dimmi quello il pensiero magari che ho più in mente quello che un minimo mi può preoccupare è il fatto che magari con tutte queste pornattrici e il lungo tempo di un set che magari di una scena come il problema è come faccio a farlo rimanere dritto per tutto quel tempo e riuscire a non venire quello queste due cose sono quelle là che magari mi rimbalzano di più nella testa ma infatti ma infatti questo è già questo è già un pensiero adrenalinico no adesso non ti voglio non ti voglio buttare giù in quella direzione però in realtà è proprio il pensiero al contrario che devi avere tu devi dire tu devi dire proprio l'opposto lo so che è difficile però in realtà anche lì ti renderai conto vi ricordate quello che ho detto prima state sul set e pensate cazzo si stocca con un altro da qua dici che schifo stai lì e tu lo schifo non lo vedi più perché in due state lavorando tutte e due tutto avete in testa a meno che di toccare quel cazzo il contrario state facendo una posizione quindi è importante tenere la posizione la stessa storia per quanto riguarda il venire e l'erezione durante la scena è normale per quello ragazzi è chiaro non mi aspetto che siete là sei ore a cazzo duro però è normale avere una situazione in cui uno di voi perde la concentrazione ma è solo una questione di perdita di concentrazione e perché si perde la concentrazione? perché si comincia a avere timore di venire allora ah oddio se mi si ammoscia ah oddio se muovengo se questa si muove troppo se comincia a menar e subito venite ma ve lo posso stragarantire che succederà ma non è un problema quello che vi dico poi piano piano quando siamo lì io spesso lo dicevo ai ragazzi se state per venire fermatevi rilassatevi ci sarà qualcun altro al posto vostro infatti noi all'inizio le prime scene la prima in assoluto di solito è un po' come rompere per rompere il ghiaccio si parte con una sorta di gang bang ma perché gang bang? perché l'unico modo per togliervi lo stress siete nudi fate sesso venite ma non avete lo stress di dire oddio mi tocca a me non tocca a me lo fate in maniera molto disinvolta come se siete un gruppo di amici divertiamoci c'è Malena c'è Martina Sara o qualcun'altra o altre c'è Richies Amiradara Tiffany Tatum chiunque ci sarà e voi in maniera molto tranquilla relax iniziate lì è un test perché io mi ricordo che dopo il primo test già cominciano cominciate a parlare tra di voi ah cazzo ho visto ho avuto delle difficoltà qui ho avuto delle difficoltà là l'altro mi si è messo davanti non mi ha lasciato spazio ragazzi è un lavoro che non potreste mai e poi mai e poi mai imparare in una settimana in una settimana piano piano uno si fa dei test e vede come funziona io quello che posso dirvi è la calma è la cosa migliore essere razionali cercare di buttare via i cattivi pensieri ma tanto arrivano uguale non c'è problema però quando arrivano non succede un cazzo te ne vieni se avete 21 anni 19 23 27 dopo qualche minuto in teoria in maniera relax magari potete ripartire se non ripartite perché avete un problema no no se riparte si riparte con Malena e Martina come vanno ripartendo ragazzi uno viene e poi riparte vi dico la verità quella è la parte che piace più a Malena Malena adora il sesso con voi tra un po' arriva lei ve lo dirà lei adora il sesso con voi perché gli piace il fatto poi alla fine di avere una sessualità vera perché se siete delle macchine scopate 4 ore di seguito questo Malena ce l'ha già con i professionisti scopare 4 ore di seguito lo farete anche voi una volta che avete capito come funziona sto lavoro qua avete la stessa razionalità nella testa ce l'avete con le posizioni ok adesso non posso venire perché devo fare la scena devo fare 4 posizioni 5 devo fare le foto devono ritruccare la ragazza io devo stare pronto quindi quelle 4-5 ore passano o 3 ore che siano passano perché sapete già che c'è da fare quello 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 e quell'altro e quindi non posso venire è così che si fa a imparare a venire a comando quello che si dice venire a comando è tutto veramente tutto molto tra virgolette semplice da capire ma ci vuole tempo non è che si impara in due giorni questo è sicuro ma ad esempio è mai successo che tra una scena e un'altra magari un attore viene e la scena successiva si riprende quindi probabilmente fa più eicolazioni ad esempio in una scena sola magari a trovarlo io ho avuto un paio di ragazzi professionisti che avevano bisogno di venire appena iniziava la scena una volta che sono venuti riuscivano a fare dieci posizioni senza più venire venivano quando avevano bisogno ma se non venivano all'inizio era un problema uno di questi era Giampiero non so se qualcuno di voi l'ha conosciuto Giampiero dalla prima academy su Netflix c'è e allora su quell'academy Giampiero era uno dei peggiori non poteva neanche iniziare perché se ne veniva ma come l'appoggiava veniva e quindi stava sempre nelle retrovie Giampiero è tornato a Budapest è venuto a Budapest si è messo a lavorare ai ristoranti perché voleva assolutamente diventare porno star oggi lavora tutti i giorni a Praga è diventato un pro e non ha più problemi di venute di niente ha capito totalmente come si fa il suo nome si chiama John Price se voi mettete John Price Giampiero Giampiero è Price Price capite cos'è John Price è il nome di Giampiero dall'accademia è diventato un porno star super pro e lui era quello che come lo toccava una ragazza schizzava era più forte di lui io penso che sia una cosa anche mentalmente è totale ma il sesso è mentale ragazzi è tutto mental è tutto mentale tutto mentale diciamo che è molto fisico però comunque ragazzi la sessualità si fa con la testa e si usa il cazzo come accessorio questa è la parte più importante da capire non è l'uccello che comanda è la testa questo ve lo ve lo posso mettere per iscritto poi se la testa funziona bene tutto viene comandato alla perfezione però dovete dovete capire che la base è quella là non lasciatevi portare dall'uccello ma dalla testa sul set dall'uccello fuori nella vita normale è bello perché è tutto naturale è tutto molto figo però 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 è molto sul set è molto 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 la testa poi un'altra domanda ma questa è più una curiosità sul set bisogna essere un po' tutto depilato o ci può stare un po' di pelo no allora queste sono mode sono mode c'è chi si depila totalmente perché la nuova generazione la vostra tra virgolette i ragazzi si depilano molto perché alle donne piace così poi invece c'è chi non lo fa o chi lo fa solo intorno all'uccello per avere la sensazione del cazzo più grande effettivamente quando uno si depila totalmente l'uccello sembra che le dimensioni non riesce a capire quindi magari sembra un po' più grosso l'uccello ma è solo una questione di solo una questione secondo me estetica non è assolutamente fondamentale per noi però però quello che dici quello che dici trovo un perché ad esempio le donne che leccano i testicoli mentre io faccio la ripresa oppure leccare il culo alcune donne a me leccare il culo con i peli mi piace ti dico la verità di una donna di una donna poi ti dicevo poi le donne si radono dappertutto però ogni tanto trovi quella ancora incolta a me piace però ti dico papà ma voi siete ancora ragazzi è giusto invece dicevo per quanto riguarda le donne spesso e volentieri quando devono fare un pompino fatto come Dio comanda se voi siete nei testicoli pieni di peli spesso e volentieri vedi queste che si fermano tolgono il pelo dalla bocca e questo è molto brutto per la ripresa perché bisogna tagliare invece tanti ragazzi si vanno con i testicoli completamente depilati ma è solo esclusivamente per una questione di riprese lì secondo me vale la pena farlo vale la pena perché le ragazze non si lamentano e la ripresa è più clean quindi un consiglio tuo sarebbe mi preoccupava più per le gambe ma io allora il mio consiglio no no gambe no zero problemi secondo me il consiglio mio è quello di venire totalmente come piace a voi e non come vorreste farvi trovare perché vi spiego essendo un mondo totalmente nuovo più restate voi stessi e più vedete con i vostri occhi e prendere una lametta il giorno dopo ci mettete a tre secondi e mezzo se magari venite subito vi siete depilati dappertutto e non vi ci ritrovate col corpo secondo me la base è che cercate capito cercate di essere voi stessi il più possibile questa è la base perché ragazzi più si cerca di assomigliare al porno star di turno e meno secondo me la base è portare la vostra personalità stasera siete tutti molto fighi tutti estremamente consapevoli parlate in maniera tranquilla di quello che volete fare questa è l'attitudine giusta e direi che da lì in poi è step by step come voi vedete questo mondo e da lì prendere le decisioni secondo me è la cosa migliore Giampiero proprio per parlare di lui mi ricordo mi chiamava spesso e mi diceva Rocco ma quello là quell'attore lì fa sta roba ma io la posso fare pure meglio ma come cazzo che prendono sempre questo cioè comunque era sempre critico su se stesso guardava cercava di capire però dopo dopo che è entrato nel business quindi veramente dopo questa settimana di academy in qualche modo dobbiamo continuare tra virgolette a fare una formazione dopo questa settimana d'academy capirete da me se vale la pena continuare questa è la base perché se io vedo che non che non ci sono i presupposti ragazzi i presupposti a parte tutti i scherzi tutto si imparna la vita tutto 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 anche le frecce tricolori quello che fanno loro sono ore anni e anni e anni e anni di insegnamento e di studi poi c'è chi ci arriva prima chi ci arriva dopo chi ci arriva tanto 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 dopo questo è il punto se voi avete la natura che lavora con voi e quindi vi piace molto il sesso riuscite a disinibirvi il prima possibile capite abbastanza velocemente come come ci si pone davanti alla telecamera sapete come porvi con le ragazze perché le ragazze non sono semplici non sono tutte malena alcune rompono i coglioni perché sono delle star quando lavorate con una star magari una parolina sbagliata gli si girano i coglioni e vi vi create un problema e voi magari lì vi trovate un muro dite adesso che si fa quindi tutto questo è il lavoro è bello ma ci sono i lati negativi e ci sono i lati negativi tanti i lati positivi ma anche alcuni negativi lì una volta messi tutti insieme uno dice mi conviene o no oppure perfetto scelgo un'altra strada me li faccio per conto mio oppure ne scelgo ancora un'altra cioè è troppo presto per dirti dopo una settimana quello che si farà oggi quello che posso dirti è che è che una volta senza Academy era quasi impossibile ci si entrava per amicizia poi qualcuno che cercava di però è anche vero che una volta non ti chiedevano tutto quello che chiedono oggi ragazzi oggi su un set io ad esempio quando faccio un film lo vedete lo vedrete da dopodomani se non lavoro con professionisti ma con la P maiuscola non potrei fare nulla di quello che faccio quindi è abbastanza cioè è difficile iniziare il giorno dopo che avete finito l'Academy ma non è impossibile perché perché se avete sento sento un chi è? ah dicevo se ma c'è un eco di me che rientra? ragazzi? eh sì c'è qualcuno che ha aperto qualcosa? ok no sempre uguale? no noi in diretta non sentiamo niente eh no io sento proprio da adesso rientra sì sì prova adesso ok sì adesso non si sente più ok quindi dicevo non è così semplice darvi una risposta adesso non lo è per niente dicevo potrebbe essere anche che qualcuno di voi è un fenomeno però questo che ne so io così non riesco a saperlo dovete sapere solo solo una cosa vi dico che io il film che faccio domani domani dopo domani perché dico domani perché da domani siamo sul set a preparare tutto film che faccio dopo domani è un mese e mezzo che l'ho dovuto preparare e ho dovuto bloccare tutti gli attori tutti quanti da un mese e mezzo perché se tu vuoi fare qualcosa fra una settimana non fai nulla perché sono tutti occupati tutti occupati c'è tantissime produzioni si gira molto tra Praga tra Budapest Parigi Barcellona e sto parlando dell'Europa che è il 20% della produzione mondiale quindi la verità è che c'è tantissimissimo lavoro tantissimissimo lavoro donne ce ne sono tantissime il rapporto donne uomini è è inutile dirlo ci sono migliaia di donne e pochissimi maschi per sempre il solito motivo perché per l'uomo è più complicato molto più difficile quindi chi riesce come maschio piano piano che riesce ragazzi lavoro non gli mancherà sicuro questo è sicuro per le donne è un po' più complicato perché è molto più facile iniziare molto più difficile restare bisogna usare tanto cervello vedi Malena che sono 6-7 anni adesso no no 4 anni credo entra Malena prova a vedere se c'è Malena ci sei? ci stai guardando? che facciamo un bel vorrei che no così potete fare anche qualche domanda a lei qualche altra vogliamo prendere qualche telefonata? discord ora vediamo un po' se qualche ragazzo o ragazza ci vuole chiamare ok si perché stanno vedendo Malena ragazzi posso farvi una domanda chi di voi ha già anticipato la famiglia dell'idea di venire a Budapest io tu? io gli altri? no surprise surprise che pensate i vostri genitori sono secondo voi i vostri genitori sono più propensi all'esperienza o ci resteranno male o si preoccuperanno forse un po' mia madre ok tua madre sarà preoccupata sì magari perché non è diciamo non entra in questo genere di cose diciamo non gli piacciono molto però invece non è comprensibile 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 è chiaro invece dicevi bene io vado io anche perché c'è un buon rapporto con loro quindi soprattutto sotto questo punto di vista ne spiego anche con loro e degli che vado a Budapest per un'esperienza del genere mi darebbero ok tranquillamente grande 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 no è importante ve lo dico perché è molto importante perché il pensiero di avere poi dover dire ai genitori vado a Budapest in vacanza in vacanza a visitare il museo oppure le terme e poi far finta che stai lì è una rottura di coglioni invece per fare questa esperienza qui la cosa migliore è essere iper iper sinceri magari sarà un po' sarà un pelino più complicato all'inizio da farglielo capire però se li dite come vi state dicendo a me un'esperienza che volete farvi non credo che ci siano grandi problemi non più per fortuna non più dai io volevo dirlo io volevo dire dopo che avevo fatto il primo però ho detto vabbè io lo dico prima così mi sono venuti in cielo almeno sanno anche quello che voglio fare chiaro 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 io io a tavola a pranzo tipo quando avevo 16 anni già che volevo intraprendere questa carriera mio padre tipo mi fece qualche battuta sul fatto che doveva appendere i manifesti fuori casa per dirlo a tutti mia madre mia madre invece disse tanto ci devi andare tu quindi a fare i tuoi però non erano contro carini 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 è molto importante sì sono molto scartosi secondo me se non altro è molto importante avere dei genitori comprensivi perché sennò diventa una rottura di scatole se si mettono contro diventa difficile per quello che dicevate prima trovare quel relax invece con i genitori pro il relax va alla grande provo a sentire Malena io invece stavo guardando sì dimmi io invece stavo guardando la serie su Netflix con mio papà e una volta gli ho detto magari un giorno ci sarò anch'io la i miei invece ci sono rimasti un po' male infatti chissà come renderanno quando io parlerò sono rimasti male sì sono un po' vecchia barbia sì ma infatti non è da cioè non è che uno perché ti dicono di no devi vedere male i tuoi genitori per l'amor di Dio questo no mai perché ragazzi ognuno di noi è nato con la stessa educazione in Italia è così purtroppo ce la tramandiamo da una vita però poi ognuno di noi ha anche a volte delle esigenze diverse da quello che ti insegnano e quindi decidi di fare quello che vuoi nella vita l'importante come si dice no è farlo per te e non per gli altri quindi se si ha l'ok dei genitori è sempre meglio per un discorso di rispetto ma il resto non cambia almeno per me è stato così credo che sia giusto così perché la vita è nostra non è dei genitori bisogna avere rispetto però è sempre la vita vostra se poi uno ho capito se no si vive sempre la vita degli altri ok Manuel non è potuto entrare sì Manuel non è potuto entrare ragazzi purtroppo ci doveva essere si recupera un altro giorno gli faceva molto piacere essere qui era confermato fino a stamattina e poi niente mi ha detto che non poteva più entrare allora Manuel voleva entrare solo ed esclusivamente quando ha saputo che facevamo una live parlando dell'Academy perché lui viene dall'Academy lui ha iniziato con noi con me a Budapest l'ho portato a Praga e poi Manuel Ferrara ecco Manuel Ferrara è quello che dicevate prima voi quanto tempo ci si mette Manuel Ferrara era un ragazzo che abbiamo trovato in un locale di scambi a Parigi era un ragazzo totalmente relax divertiva con le mascherine cioè le mascherine in un locale di scambisti ha conosciuto mio cugino si sono messi a parlare lui gli ha detto non ci credo tu lavori con Rocco Siffredi gli ha detto faccio i film da una vita con lui e me l'ha portata a Praga la prima volta me l'ha portata a Praga e non sapeva neanche posizionarsi come voi davanti alla telecamera ma dalla seconda giornata faceva già le scene da solo era totalmente indipendente cioè Manuel era tra virgolette un Messi o un Ronaldo del porno perché è entrato anche aveva già 22 23 anni non è che aveva 18 anni eppure 22 oppure anche qualcosina in più è appena entrato subito si è trovato a suo agio con tutto cioè qualsiasi cosa gli avrei dovuto spiegare lo faceva da solo questo è Manuel Ferrara vi dico solo che dal film di a Praga l'ho portato a Budapest As Collector che è stato il mio più grande film a forze della storia lui era il coprotagonista dopo un mese nel porno e dopo As Collector l'ho portato in America e gli ho fatto fare fashionistas insieme a me con Giorgio Stagliano e da allora Manuel Ferrara non è mai più tornato mai più tornato a diciamo in Europa prima di essere diventato non cittadino ma carta residente in America si è fatto residenza in America carta verde si è sposato lì a una società è diventato pazzesco e ogni volta che mi vede mi dice se non era per te e per tuo cugino io chissà dove cazzo starei Manuel Ferrara è diventato uno dei più grandi attori porno al mondo insieme a Nacho Vidal mi sentite? si chi è? si si chi è? parla parla mi sentite? si mi sentiamo si ciao sono Dastetic ciao togli l'audio togli l'audio perché ti rientra togli l'audio togli l'audio l'audio lori ve lo devi dire però perché sennò insomma se l'abbiamo perso ci sei sempre? se l'abbiamo perso insomma vi dicevo un po' vi stavo parlando di Manuel Manuel è diventato veramente il numero uno numero uno numero uno in assoluto ragazzi pazzesco pazzesco quello vi dicevo prima uno non può mai dire niente fino a quando non vive in action certo certo ok ok senti vogliamo vogliamo sentire Malena ce l'hai il numero se ci senti se ci sta online o se la devo chiamare ma gliene hai mandato l'invito ok James Dean pure è forte lo sappiamo che James Dean è forte ecco facciamo un po' di domande a voi allora qual è il vostro attore diciamo che no lasciate perdere però me proprio un attore che vi piace vedere nei nei film che vi ispira di più Ferrara? infatti ero contento che stasera poteva esserci sì Manuel Ferrara è forte 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 ma italiano o anche femminile? tutto qualsiasi cosa io guardo un po' di tutto diciamo non ho un idolo diciamo guardo un po' è così ma io non guardo di solito gli attori uomini ma guardo solo le donne quindi non ti potrei rispondere che avevo preferito grande 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 però le donne che tu che ti piacciono sono accompagnate sempre da un attore ti spiego sì se un'attrice che ti piace che ti fa impazzire viene scopata o scopa diciamo con un attore che non è in grado che non si sa muovere non la sa far godere non tira fuori il massimo da lei in automatico la donna forse neanche riesce ad appassarla no è importante è importante l'attore maschile però non saprei proprio dirti una preferenza diciamo che ho notato che osservo più le donne rispetto all'uomo quindi non riesco proprio a seguire ah no ma quello è chiaro quello è chiaro quello è chiaro però anche io guardavo sempre le donne nella mia vita però avevo un attore di riferimento negli anni 80 era era vediamo un po' se Fabio Anastasi ce li scrive chi era l'attore di riferimento che guardavo io che poi mi ha fatto entrare nel porno tra virgolette grazie a lui chi era chi era chi era vediamo un po' se il nostro si John Holmes bravo Francesco Guarino Pontello Gabriele Pontello chi di voi lo conosce nessuno ma io non lo conosco chi lo conosce qualcuno di voi conosce Pontello ma forse potrebbe essermi capitato che in vecchi giornali dell'edicola erano fotoromanzi degli anni 80 se non sbaglio bravo 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 si trova qualcosa che tirano dietro con un euro tre o quattro e c'è tutto un eclano dentro che numero uno che sei che numero uno quelli sono i fotoromanzi che tu dovresti raccogliere e mai buttare sono proprio la sono fatti bene veramente il top del top il top il top del top super sexy si chiamava come faceva quando veniva super sexy vediamo se te lo ricordi che scrivevano no io ho letto ne ho letti due perché sono trame lunghissime con centinaia di pagine ne ho finito di leggere uno l'altro giorno e c'era tutta una trama quello sinceramente non lo so i fix chen chen i fix chen chen non ti ricordi? non ti ricordi? eccolo là Francesco Guarino i fu x ma che i fu x e i fix che i fu x comunque no ragazzi bei tempi bei tempi bellissimi tempi no Malena è arrivata Malena Malena ma lo sai che ero convinto che ti avevo perso ho detto Malena no mi sono detto o Malena sta guardando la live e non gli piacciono i ragazzi no 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 è il tempo di entrare e collegare il computer e ci sono ci sono sempre ragazzi welcome to Malena ecco qua Malena per voi non è poco come inizio ciao buon avuto ciao ciao oh Malena io ho fatto un intro a questi ragazzi devo dire che stiamo andando di settimana in settimana sempre meglio quelli della settimana scorsa erano molto carini ma loro li vedo ancora più decisi più decisi sì ho fatto tu eri fuori insomma ho fatto un'intervistina uno a uno per capire un po' e sono tutti belli 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 presenti vogliono farlo l'esperienza gli piace molto tutti molto convinti pure Fabio vedi pure Fabio è convinto stasera col main sponsor col main sponsor grande Fabio ragazzi Fabio lo conoscete oramai no Fabio verrà come veste di viene da collante fra voi e noi viene capito da collante quello che che fa sì che tutto diventi fan e divertente certo certo ho detto Fabio farà da collante fra di noi il collante lo tirano fuori i ragazzi Fabio lo raccoglie e tu lo e tu lo lo metti no bene che ci dici che vi devo dire qua in Puglia siamo rimasti in zona già in zona arancio come mai perché ma perché perché ci sono troppi ricoveri quindi ci tengono un po' più più calmini ecco vedete io stasera ho appena letto io la prossima volta Lori dobbiamo mettere i nomi sotto perché se no ogni volta non mi ricordo io l'altra volta cioè stasera prima parlavo con un ragazzo che mi ha detto Rocco ma secondo te si fa covid oppure si rimanda mi ricordo solo che ha 19 anni come ti chiami? io sono io ecco Alessio Alessio vedi questa è una cosa che dovevi fare Lori da tre ore fa no? dovete essere un scienziario però tre ore fa ma lo devi fare aspettava a me aspettava a me c'è niente di peggio di dire tu come ti chiami dieci volte sembra che sono rincoglionito ma un po' lo sono allora Alessio prima diceva ma se nel caso covid si riparte col problema si sposta all'academy ho detto sicuramente sì ma non lo vorremmo mai perché l'estate l'academy è la morte sua per tutto per il caldo perché le giornate sono lunghe giusto Malena? sì perché diciamo l'estate già il sole mette un po' di armonia a tutti però siccome Budapest non è così calda ho già avuto l'esperienza d'inverno e sicuramente l'estate sì è molto meglio poi magari qualcuno di voi è un po' più libero rispetto alla stagione invernale perché ha dei lavori stagionali anche quindi sicuramente l'estate è il periodo migliore poi noi non soffriamo il prezzo quando siamo fuori quindi molto meglio no ma poi ragazzi la verità come dice Malena sì non è caldissima Budapest l'inverno però l'estate si sta da paura si sta da paura l'unica differenza è che dopo il covid secondo me quando si riapre e riapre tutto ragazzi secondo me sarà terribile nel senso che la gente avrà una voglia di chiamare che se avete problemi schizzare subito schizzate cioè Malena Malena sta aspettando l'Accademia Nuova da un bel po' da tanto no perché prima c'era Alessio sempre lui che mi diceva ma se io vengo subito che succede? io ho detto Malena ti ringrazia perché verrai due volte sì è buona la prima no continuo hai capito? tra l'altro ho sentito che ha 19 anni quindi una delle caratteristiche dei ragazzi molto giovani è proprio quella guarda Alessio 19 Amedeo 21 Gabriele 18 Gabriele 18 Winkerman 27 vabbè a nome c'è una 71 ma sembra che c'è una 21 perché è un ragazzino sono questioni di capire Giuseppe 27 giusto Giuseppe? ah 24 scusami l'unico che mi sono sbagliato Giuseppe perché è entrato alla fine ma ha fregato 24 Fabio ce n'ha 19 pure lui si è lasciato la barba ha 19 anni tutti piccini bene bene avete già le idee chiare allora più o meno sì sì no sai cos'è che come entri tu Malena entrano subito nello status entrano in soggezione guardali già ma perché non ho bisogno di trascorrere del tempo con me volentieri in realtà in realtà io sono la persona più semplice di questo mondo quindi non vedete Malena vedete un'amica questo è certo posso dire una cosa appena sei entrata io ho whatsapp web attivo per messaggiare ho mandato il link della live a alcuni amici sei entrata tu le notifiche sono sbalzate ma io te l'ho detto ma io te l'ho detto guarda che guarda che quello che ti ho detto prima delle attrici è tutta verità Malena è la numero uno perché oltre ad essere brava anche il livello umano è pazzesco veramente il top il top non voglio farmi i complimenti da sola però l'ho detto già nell'altra diretta io mi rivedo molto voi quando ho iniziato perché anche per me all'inizio non è stato semplice mettere chiede a Budapest quindi quando vedo voi che venite all'accademia anche se io sono Malena però in realtà rivedo me stessa quindi è come se ero che il primo giorno con me si fosse comportato da antipatico assolutamente no quindi non potrebbe mai essere ovvio posso dire un po' di situazione perché magari qualcuno di voi vede un po' troppi i miei film ma vi posso dire che sono una ragazza normalissima normalissima basta trascorrere giù su dieci minuti con me e poi direte tutto Malena c'è una news pazzesca cioè lo sai chi sarà insieme a te uno dei teacher per i ragazzi non te la smetteresti mai chi è uno degli uomo è uno degli attori uno degli attori con la quale hai fatto una delle scene più toste e forti della tua carriera e non sono io chi è Mike Mike Chapman ragazzi uno degli istruttori che sarà un divertimento unico chi di voi conosce Mike Chapman l'attore di New York Fabio no ragazzi allora è un autentico passatempo ma è veramente un talento lui Malena diciamo la verità un talento pazzesco allora è un talento però è anche un attore che veramente conosce la disciplina cioè nel senso che quando si inizia si lavora serio cioè non va disturbato non va sollecitato però è anche una persona molto molto divertente cosa molto rara cosa molto rara però lui sicuramente ci mette molto della sua personalità questo c'è da dire e poi comunque ha un'esperienza cioè immane immane però la parte bella sua secondo me è l'improvvisazione in qualsiasi situazione riesce a improvvisare e a stravolgere infatti non bisogna mai dirgli quello che vuole fare quindi c'è tutto lui no comunque devo dire devo dire sì effettivamente quello che dice Malena è tutto 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 realtà e corrisponde a realtà a parte il fattore che con me lui ha una certa ha un ha un po' più di rispetto che degli altri e quindi venire a lavorare per me farà molto quello che gli dico io Malena giustamente diceva non è sempre simpatico perché ogni tanto si chiude in se stesso sta nel suo mondo un po' particolare ma devo dirvi che come attore io parlo attore davanti alla telecamera a livello di improvvisazione artista creatività fa paura poi è molto bravo insegnare le posizioni in maniera divertente sarà una settimana di stand up comedy avete presente il one man show fatta da lui sul set di continuo perché fa ridere in continuazione quella è l'unica parte un po' che mi preoccupa perché è molto fa molto ridere un po' strano però devo dire che è molto 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 figo niente lui ti dico la verità Malena ci ho pensato molto lo voglio mettere dentro per due motivi uno perché è un personaggio lui stesso cioè lui da solo fa ridere solo se si inquadra lui da solo e due perché sono convinto che aiuterà i ragazzi molto 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 lui arriva e vi dà e vi dà dei consigli secondo me molto giusti è molto carino da quel punto di vista è sempre stato dalla parte degli attori lui meno dalla parte dei produttori quando io faccio il produttore regista mi rompe un po' il cazzo ma ma come verso di voi è carino sono strasicuro strasicuro sì con le donne è abbastanza forte molto ma il problema è che è tosto deve dimostrare deve dimostrare ma non ti preoccupare è un'eterna competizione però non lo imitate quando fa sesso ecco non fate come gli uomini però in realtà io per esempio a me piace lavorare con lui perché mi trasmette molta energia cioè lì si vede la differenza tra un attore che lo fa quasi in maniera meccanica così perché lo deve fare invece e Mike io quando lavoro con lui sento proprio l'energia che mi trasmette infatti lui può farmi qualsiasi cosa io non le dirò mai di no mai anche le più estreme perché mi dà questa energia e sicuramente sarà in grado di trasmetterla a voi sicuramente sicuramente quindi ragazzi adesso avete capito che con Malena non ci sono limiti guarda come li guarda che faccia che fanno se Mike se Mike può farti qualsiasi Mike è tosto Mike è incredibile io la prima volta con lui oddio che sta succedendo per cui ho capito che lui è uno a cui piace un po' condurre tutto quanto è molto dominante sì è molto dominante però è anche è bello diciamo lasciarsi andare a una persona a un attore che ti sa dominare un po' come Rocco e comunque un po' come gli attori quelli diciamo più conosciuti altrimenti no altrimenti no meglio che facciamo noi no ma infatti hai ragione lui allora lui è sicuramente un attore super dominante però lo sa fare e domina molto con la testa neanche tanto fisicamente diciamo la verità è più di testa è più più nel modo di esprimersi ti blocca si riparte ricomincia ha capito le tempistiche ha capito le tempistiche per togliere la routine nel sesso la routine nel sesso ragazzi quando state nella stessa posizione per tot minuti dopo un po' che mi invento adesso ecco con lui non succede mai 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 io penso di aver fatto ho fatto tre scene con lui e tutte e tre le scene sono state sempre diverse sempre anche emotivamente diverse perché lui appunto è in grado proprio di trasferire delle emozioni non so nemmeno però quando lo vedrete dal vivo sicuramente capirete non a caso una delle scene preferite dei miei fan è proprio quella con Mike non lo so perché è una delle preferite molti mi dicono ah ma quella scena con quell'attore di colore col vestitino giallo che io ero appena tornata dall'isola dei famosi ero distrutta e Rocco giustamente mi ha dato subito Mike Chapman per farmi svegliare per svegliarti un po' dalla dall'isola dai due mesi di astinenza due mesi di astinenza chi ti do Mike Chapman però la verità è quella è proprio il senso di dominazione vera però dominazione non solo fisica anche molto molto psicologica in realtà è quello che fa Mike molto ma guarda io ti dico sul numero di una mano Mike Chapman trova il posto adesso tu mi dirai esageri no tu sai chi è il mio preferito è Nacio Vidal e sarà sempre Nacio Vidal dopo Nacio Vidal c'è Manuel Ferrara ma non perché viene secondo è semplicemente il gusto mio io so che tu sei al contrario per te c'è prima Manuel Ferrara e poi tutto il resto Malena eh Malena però no io ti parlo proprio da regista io ti parlo da regista quando io ho la camera in mano che devo riprendere sti ragazzi c'è Nacio c'è Manuel e ti dico guarda caso poi subito dopo chi viene Chapman ma perché Chapman i ragazzi di un'accademia si sono incontrati con Nacio Vidal infatti hanno installato un rapporto pazziti sì pazziti per Nacio Vidal ma perché Nacio un ragazzo come voi cioè chiunque è diventato una star nel porno ha un animo eh che non dimentica da dove viene Nacio Vidal è un ragazzo che sognava di fare questo da bambino Manuel sicuramente la stessa cosa eh lui con Chapman l'incontro è stato particolare lo sapete che non gli ho mai chiesto se lo voleva fare o se ci si è ritrovato però però conosceva il mio nome da New York quando ho incontrato Gabriele gli ha detto Rocco Rocco Siffredi quindi sapeva chi ero quindi in realtà non aveva mai fatto porno però probabilmente aveva voglia non si sa non si sa però ragazzi sto parlando di un altro fuoriclasse lui poi sicuramente James Dean eh è tutto il gruppetto nuovo americano adesso c'è questo ragazzo nuovo che si chiama Small Hands americano ah io ci ho lavorato con lui ci ho lavorato ecco dimmi tu com'è perché sono due anni che vince miglior performer americano e c'ho c'ho Marcus che mi dice che non vale un cazzo probabilmente mi dice che non vale un cazzo perché non ha vinto lui ma com'è sto com'è sto allora io ho fatto una scena con lui e a bella Danger insieme lei è una super top insieme però ti posso dire che è stata una scena che non ha dato proprio niente non so cioè non ho allora a parte che per esempio Small Hands non è super dotato quello lo so non è super dotato piace molto secondo me alle attrici perché ha questo fisico super tatuato è molto piccolino e quindi piace alle attrici per questo corpo tutto tatuato però io non ho trovato chissà quale performer devo dire la verità cioè per me è un bellissimo a tanti altri cioè paragonarlo a non lo so Manuel o anche Rocco cioè sono due mondi completamente diversi cioè non lo so ma infatti ma infatti Marcus mi ha chiamato era schifato perché mi ha detto non ci credo pure quest'anno hanno dato il miglior io ho lavorato con lui è stata una scena di esattamente 40 minuti però mi sembrava di far sesso con un amico cioè per dire non mi sentivo di stare con un super performer è un ragazzo normalissimo non vedo tutta questa specialità scopava con un ragazzo normale dai eh sì cioè non vedo adesso gli ho fatto passare il messaggio a questi ragazzi che siamo tutti anormali vedi 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 no 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 però per vincere il premio come miglioratore secondo me devi essere un fuoriclasse cioè uno che ha qualcosa in più rispetto agli altri che sicuramente è la personalità che dai nel fare il tuo lavoro in lui io tutto questo non l'ho sentito cioè ma neanche come lo faceva neanche come lo faceva no è normalissimo cioè un attore come tanti altri non c'è nulla di che nella performance sì bravo ok finito là ma nulla di che per me posso posso darvi la mia opinione a me è capitato di vedere un film con small hand mi è rimasto mi è rimasto impresso perché c'è un liceo qui a Cremona che si chiama mani manin e small hand significa manina quindi sono quei perché lui ha la caratteristica delle mani molto piccole però c'è una cosa hanno me hanno me c'è una cosa che non capisco in te tutti gli uomini che abbiamo nominato prima non ne conosci uno l'unico che non vale un cazzo te lo ricordo ho capito questa storia prima siamo stati là hai detto non conosco nessuno adesso conosci small hand però vedi non mi veniva in mente no ma lo conosco perché no lo sai perché io ho fatto un giro nell'edicole un'estate ho fatto un giro ho preso 3 o 4 dvd per guardarli e la mia opinione che vi volevo dire è che sembra un tipo di pornografia molto soft soft porn o magari quel tipo lì porn for women ci sono anche queste tag ma infatti probabilmente è un altro genere forse 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 come dice Malena piace molto alle ragazze e ricordatevi una storia per i ragazzi proprio piacere molto alle donne è la base perché vedete cazzo non è enorme però lavori tutti i giorni cazzo non è enorme però le donne ti richiedono perché qual è la differenza una storia è avere le donne che dicono voglio lavorare con lui al regista e una storia avere con lui non ci voglio lavorare allora diventa difficile adesso vi faccio un esempio dopo domani inizio questo film e il mio attore quello che farà da protagonista ho avuto tante difficoltà a trovare le donne che volevano lavorare con lui ma tante lo sai chi è Malena questo ragazzo è l'attore spagnolo questo Maximo me l'hanno scritto ah sì sì che mi ha dato sì sì allora apparentemente c'è sempre di più ragazzi in tutta Budapest sia russi che ungheresi che c'è che vogliono lavorare con lui sempre di meno domanda perché 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 è molto forte ma senza controllo cioè ha il controllo ma non capisce quando la donna ha male quando gli sta facendo male quando e allora la maggior parte delle donne hanno dato basta all'agenzia questo per farvi capire quanto sia importante l'altro lato invece adesso voi mi direte ma come si fa dovete essere bravi intelligenti a capire come spingere perché ok Malena è vero pure che quello non c'ha l'uccellone enorme però magari però magari anche se ce l'ha normale ma lo usa lo usa che non fa male no? sì 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 ma in realtà diciamo bisogna cercare sempre una sintonia con la donna un attimino bisogna una cercare non dico dirla però un minimo di fili bisogna cercare e soprattutto dovete pensare solo a voi stessi ma le attrici quello è sicuro al cento per cento perché comunque se poi l'attrice si pone in maniera simpatica rigida è la fine è la fine totale ciao Lisa Lisa ci dà la buonanotte buonanotte anche a te io comunque ad esempio parlando con lui con mi sento un casino si sente di tutto di più lori ad esempio io parlando con lui con Marcus mi diceva Marcus non capisco non capisco eppure vado a chiedere a Lisa Anne a Jane Wilde tutte le attrici americane con la quale ho parlato dal dopo Oscar cioè da un mese fa tutte ma tutte Marcus is the best Marcus is the best Marcus is the best però alla fine avventura qualche motivo Small Hands ha avuto la meglio non lo so non capisco non si sa è già la seconda volta mi sembrava un film molto con trama quindi probabilmente sono scelte delle giurie tipo le notti degli Oscar magari era una cosa sì 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 ma questo è miglior a performer performer significa su tutta una serie di scene hanno scelto lui però va bene era tanto per dire ragazzi posso fare una domanda a Marina come no volevo chiedere come ti sei sentita la prima volta la prima volta sul set sì sì allora io devo dire che Rocco con me è stato davvero carino non so se lui se lo ricorda ma la mia prima volta sul set Rocco in realtà mi ha fatto fare una scena con una donna e quindi era un ambiente un po' più come dire familiare e non mi sono sentita subito buttata su un vero e proprio set io comunque non ho difficoltà davanti alle telecamere perché l'ho già ripetuto diverse volte che io ho un'esperienza nel mondo scambista per quasi dieci anni quindi sono sempre stata abituata a fare sesso davanti ad un attore e questo mi ha aiutato tantissimo davanti alle telecamere perché non ho nessun tipo di imbarazzo quindi non ho poi vabbè io ho tutto il mio meccanismo psicologico perché in realtà mi è proprio la telecamera che mi eccita è tutto il contrario perché il pensiero che gli uomini si faranno mille seghe su di me mi fa andare fuori di testa sta roba però con il principio dell'esibizionismo però la prima volta non so sicuramente ero timida sono molto cambiata dalla prima volta adesso lo so anche io però ok l'imbarazzo c'era però io mi sono sentita molto a mio agio tantissimo la pressione era tanta perché avevo la pressione di Rocco e la pressione soprattutto di Gabriele che alle 7 di mattina mi chiamava muoviti i pellevaggi devi essere pronta in 10 minuti e infatti i primi tre giorni ho detto ma questo è una caserma non è un set poi dopo ho capito che in realtà tutto questo è stato fatto per darmi una sorta di disciplina e non smetterò mai di ringraziare tutto questo che mi è stato dato perché per la vita sarà un bagaglio unico per me però superato lo step un po' ok dove mi trovo però ripeto io perché l'ho vissuto più come un momento trasgressivo cioè il mio apprezzo al porno inizialmente io non lo vedevo perché volevo fare quel lavoro io lo vedevo perché per me era un momento di trasgressione quindi mi sono buttata così come andava mi sono buttata così era come rivivere non dico quello che già facevo però andare uno step più alto davanti alle telecamere quindi l'ho vissuto veramente come un momento trasgressivo e penso che questo mi abbia aiutato tantissimo tantissimo tanto 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 hai capito Giuseppe? sì 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 ho capito e lei che tu Rocco? io la mia prima volta sì com'è? la mia prima volta vuoi sapere come andata? sì bene ma talmente bene che me ne sono venuto due volte al bagno prima ancora di iniziare la scena no ma ero per quello dico conosco tutti i step perché io la prima 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 volta sul set non ho avuto una scherchia di adrenalina le ho avute tre quindi però mi sono riuscito a riprendere perché poi la scena me l'hanno fatta comunque rifare ma alla prima 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 io mi sono fatto fregare dai francesi ragazzi e rompirla perché avevo già fatto quattro giorni di foto con Pontello quindi ho iniziato in maniera un pelino diciamo più diversa perché ho iniziato col fotografico su Supersex e dopodiché sul fotografico non è che fate sesso fate le foto cioè sei fermo non ti muovi quindi l'erezione non mancava perché ero eccitato che se mi toccava un po' di più venivo quindi mi fermavo non venivo mi fermavo non venivo e quindi mi sono detto sul set sarà un pelino più impegnativo però ho fatto quattro giorni di foto oramai sono sverginato qua di testa invece no sul set mi aspettavano i francesi perché dovete sapere che il porno non esisteva in Italia c'erano solo i francesi che giravano anche in Italia e quindi ero iniziando lì mi ritrovo sul set con una ragazza austriaca molto carina bruna con gli occhi azzurri ma bella da morire e c'era Andrevinus voi non sapete neanche chi era perché era la star dell'epoca in ginocchio che si segava io a cazzo duro davanti a lui in piedi perché io non capivo perché lui si segava mi dicevo ma come fai a segarti davanti a una donna perché in teoria quando una donna davanti a te è nuda tu sei in erezione quindi per me questa era la normalità non conoscevo l'altro metodo e lui si seghava e io gli chiedo al regista ma perché si masturba e mi fa perché quando i professionisti si masturbano per poi avere l'erezione e per poi è la tipa con cui ero io ha cominciato a toccarmi il cazzo poi mi fa in inglese if you want I can suck you gli ho detto ok mentre mi succhiava io però non professionista cosa faccio come un coglione lascio che questa mi succhia ma non sapevo che dopo tre succhiate il cazzo sborrava cioè io mi sono detto mi succhia a un certo punto mi parte una sborrata in faccia a lei lui lei non ci capisce un cazzo io neanche lui si alza in piedi a cazzo dura e mi fa adesso cominciamo lui viene su e il cazzo mio va giù tu puoi immaginare come ho iniziato di merda e il regista mi ha quasi buttato fuori dicendo a Pontello ma quale italiano stallone del cazzo mandami fuori sto coglione proprio così io ho chiesto a loro gentilmente di farmi riprovare mi hanno fatto riprovare qualche ora più tardi e sono riuscito a fare due posizioni e comunque ho schizzato uguale non è che ho schizzato dopo tre ore ma dopo un quarto d'ora non di più quindi la verità è per dirvi che se io torno a 35 anni fa perché stiamo parlando dell'85 se torno a 35 anni fa ti posso assicurare che ero messo abbastanza malino l'unica differenza unica forse che mi hanno dato la possibilità di rifarlo devo dire grazie al cazzo è possibile ve lo posso dire forse sì avendo il cazzo grande essere un bel ragazzo così mi ha detto peccato facciamolo riprovare ma se non avessi avuto forse queste due cose qui è possibile che mi avrebbero semplicemente mandato a casa e non so se sicuramente con la mia testa avrei rinsistito da qualche altra parte ma non era evidente perché non c'erano le serate degli Oscar non c'erano i saloni dell'Eros era tutto un ambiente un po' era un po' un ambiente che dovevi conoscere e qualcuno ti doveva portare dentro era un po' compliquet ma inizio è sempre così bravo è sempre così però devo dirti che poi nel tempo uno le cose le impara le ho imparate io dopo sei mesi ero con i francesi sei mesi a fare le venute a comando voi dovete sapere che nel porno quando ho iniziato io non si girava in video si girava in 35 mm quindi pellicola per chi conosce un po' era praticamente il cinema con lo stesso tipo di sistema quindi c'erano queste pizze si chiamano nel cinema sono delle dei rulli di pellicola che duravano 10-12 minuti quindi non si facevano ore quando si metteva una di queste tutti insieme andavano di moda le orge quindi si facevano le orge la camera la macchina passava in mezzo uno faceva una pecorina un altro una missionaria un altro c'era tutto abbastanza semplice però quando si filmavano le venute eravamo uno a fianco all'altro e tutti con la camera che passava uno veniva l'altro veniva l'altro veniva tutti a comando dovevamo venire uno dopo l'altro fino all'ultimo e nessuno poteva dire non ce la faccio quindi in realtà quel tipo di scuola ci ha insegnato ad avere controllo sull'erezione ve lo posso stragarantire io sto parlando di 35 anni fa in cui non c'era Viagra Cialis pillole pillolette modi di ritardare o di aumentare zero quindi è tutto mentale celebrare e quindi a partire da lì si riusciva a fare tutto ciò molto più preciso anche perché diventava un allenamento psicologico over and over and over invece una cosa da quando siete diventati pornatori il vostro sesso in privato è cambiato o è rimasto sempre tragedia lo stesso Malena Malena ti risponde Malena sicuramente c'è una differenza tra uomo e donna in ogni domanda però per quanto mi riguarda la mia vita sessuale è completamente azzerata completamente perché è difficile trovare un uomo che voglia divertirsi con me anche solo divertirsi perché subiscono molto il personaggio il tipo di scene che io faccio e quindi difficilmente accetta di venire a letto con me parlo proprio solo di sesso non parlo di storie d'amore fidanzamenti parlo proprio di sesso puro è molto molto difficile o comunque se ci viene è sicuro che la prima volta facci lecca sicuro al 100% oh ragazzi questo è un dito per voi io non so veramente perché l'ho detto a Rocco tutti hanno la fissa delle dimensioni di Rocco perché mi dicono questa sei andata con Rocco io adesso che li do però dico ragazzi quello è il sesso il sesso a casa è un'altra roba cioè io non pretendo quelle dimensioni o quelle performance anzi proprio perché io sono questa posso insegnare tantissimo e invece no e invece no a nome tu sai a nome ti vedo bello concentrato che stai pensando che ce la puoi fare senza problemi a finalmente far godere un po' Malena a casa di chi stai parlando di me potrei riuscirci no a nome no sinceramente io penso che potrei riuscirci sì mi stavo leggermente mi stavo leggermente addormentando perché è una diretta abbastanza lunga quindi ero concentrato che numero uno che numero uno mi stavo addormentando devi abitare i denti lunghi a nome ma ti sei mai addormentato mentre scopavi a nome no beh quello non è mai capitato assolutamente vabbè qui una via di mezzo però ti stava succedendo no ma non mi stavo addormentando tu ti stavi addormentando con Malena che dice che non riesce a venire perché non riesce a far sesso come si deve sì no no ma ho seguito il ragionamento e ha detto che non non ha più un'attività sessuale come prima da quando fa la pornoattrice giusto ma io ci credo poco che non trova un partner abbiamo avuto un intruso l'ultimo secondo da Aesthetic ciao ciao il problema da dove chiami da Catania no grande Sissi da Aesthetic rispondi tu a Malena se hai sentito perché qui abbiamo un uomo che si addormenta invece tu che ci dici no beh addormentarsi sì sicuramente però quello che volevo dire forse io sono veramente un po' un intruso perché a parte che ti seguo e ho beccato la live così per puro caso perché mi ero messo al computer per lavorare però vabbè vediamo questo lavoro lasciamolo domani tanto oggi è domenica vediamoci stai un lavoro si può fare domani sì questo è più importante del lavoro la domanda tua o comunque la tua riflessione era che non riuscivi a trovare un partner solo per no però io adesso sto parlando di atto sessuale non sto parlando di fidanzamenti queste robe qua che è un altro domani sì 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 assolutamente a cos'era allora la domanda era proprio sesso puro eh sesso sì era quello l'ho fatto sì 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 strana comunque come cosa non è che non è strana perché purtroppo gli uomini soffrono molto di competizione e quindi vanno in competizione con gli attori che non sono anche io e poi secondo me il fatto di trovare una donna che comunque rappresenta una sessualità forte perché comunque io fino adesso con Rocco ho girato delle scene anche molto forti mi fa un attimo tremare perché voi uomini siete abituati a dire ah io ti prendo io ti spacco io ti faccio così con me o lo fai o non vale che in realtà ragazzi in realtà non avete capito che invece proprio perché Malena è presa così forte i cuori vuole l'uomo romantico molto più easy che la fa gli fa vivere qualcosa di diverso è quello che gli uomini ho capito di vero di vero a me infatti magari io sono molto altruista con gli uomini ragazzi c'è un altro intruso Ruggero Ruggero da dove chiami? buonasera a tutti ciao da dove ci chiami? da Bari no Bari e allora ecco qua Ruggero e Malena ti risponde Ruggero a te perché adesso adesso attenzione Malena perché lui ci mette poco ad arrivare ci mette poco ad arrivare da te la conosci? la conosco ma veramente dove l'hai vista? lì frequento un ristorante dove ho lavorato io tempo addietro che è il cortigiano ah sì è il mio ristorante preferito a Bari no che è il numero uno sì il cortigiano il cortigiano il cortigiano che adesso è chiuso che adesso è chiuso no? appena riappriggio siamo tutti fermi sì senti Ruggero che fai nella vita? siamo tutti fermi sono direttore di sala appunto nella ristorazione ah ok grande quello la conosci bene Malena allora coming to it coming to it coming to it comunque tornando al discorso che faceva prima Malena molte volte non è solo anche la competizione dei ragazzi anche perché magari non riescono a essere all'altezza di stare con una donna come Malena no perché? molti la vedono sotto non si sento eh non si sento eh vai e viene l'audio Ruggero non ti sentiamo ci sei? ci sei? non ti sentiamo prova a parlare prova a parlare Ruggero mi sentite prova a parlare si ora si ora si cosa hai detto non ti abbiamo sentito ho detto dicevo che magari è andato è andato è andato è andato è andato da Aesthetic tu invece che da da lì dalla Sicilia ti sentiamo molto bene che fai di bello tu nella vita? io non so se un po' si vede dietro sono in una sala che mi sono fatto studio di registrazione quindi faccio un cantante cantante produzione musicale di più poi anche sì scrivo tutti cantanti faccio quello che posso fare cerchiamo di migliorare la qualità delle canzoni in Italia vediamo grande figo figo nel senso avere l'opportunità magari di fare una scopata con te non 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 avremmo pensato guarda non so che dirti perché ripeto io ho veramente tanto tanto da dare ho tantissima pazienza e lo vedrete anche in Accademia che sono proprio il massimo della tra l'altro preferisco l'uomo non molto istruito quindi tutti quelli super intelligenti andate a casa siete out quelli che hanno studiato out c'era uno che fa informatica qui ecco Alessio vai lo sai che Alessio voleva capire se era vero questa storia che nella vita privata non riesci a trovare lui si era già prenotato ma siccome sta studiando informatica vatti a fare un giro Alessio Cirini no ma io non amo il ragazzo un po' inesperto mi piace tantissimo quindi ma il braccio rosso tre ore sono in Puglia veramente a di scegli a Puglia adesso però ragazzi detto da Malena lo so che sembra surreale ma tutto quello che vi dice è la conferma di tantissime porno star che io conosco purtroppo tanti uomini si mettono in suggestione sul fatto che sono abituate troppo bene e allora loro si danno subito il voto meno 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 ma non è che ti devi dare un voto perché non vai a fare la performance però purtroppo è così tante volte è così ragazzi ve lo posso garantire succede a Malena ma succede a tantissime altre porno star è una sorta di storia già sentita più volte dannazione no ma poi la prima domanda è sempre quella quanto è quello di Rocco ho detto caspita basta ma veramente vengono con te ti chiedono quanto è quello di Rocco ma dai tutti e dico ma domanda di riserva cioè tutti la stessa domanda no ma ti dico io non ci credo per questo dove ti trovi dai ecco il secondo prenotato da Stedi Alessio da Stedi chi ha Giuseppe tu non ti vuoi prenotare Giuseppe io sono quello il terzo il terzo quindi tu sei prenotato il terzo a nome sei svegliato o sta dormendo o già sta sognando allora la mia opinione di no ho questi occhiali che mi hanno un attimo fatto calare la palpebra la mia opinione di Malena è che una bellissima ragazza no allora io credo che tu Malena sei una bellissima ragazza e molto naturale anche ho guardato un paio di video grazie e quindi che tu sottolinei sempre mi sembra di capire che sei una persona normale diciamo certo normalissima questa è la mia opinione Alessio c'è Carlo Baghini che dice che sono un amico di Alessio e vi dico che è anche secchione quindi quindi dove vai dove vai dove vai allora ti dico lui è uno dei tanti che mi ha scritto in chat quando è entrata Malena ecco bene no però ho specificato estruito a letto mi piacciono inesperti gli uomini a letto allora sono perfetto io ok mi butto così oh il buon salvo ecco un altro il buon salvo grande salvo entrato proprio lui c'è entrato proprio pam subito mi sono infilato salvo di dove sei di dove sei sono di Brescia Lombardia grande guarda che bella carica esplosiva che c'ha salvo eh patos come si dice patos patos sono entrato per fare un paio di domande e ho delle incertezze dai ho degli esperti qui vai vai allora non sono bellissimo io non sono bellissimo perché lo so ok ma per non essere bellissimo come ce faccio a provare con una ragazza con uno charm devi farla ridere sempre ecco no sempre no perché se la fai ridere sempre no allora prendi la prima parte devi farla ridere la prima prendi quella di Malena devi farla ridere ma ti fermi perché appena ti abbassi le mutande se continuo a ridere sono cazzi quindi arriva fino lì poi non la fa ridere più assolutamente no no man allora innanzitutto secondo me non è così poi voglio dire ognuno di noi deve per forza sentirsi figo sennò come fai non puoi dire non sono bello lo so non mi sembri mica un ragazzo brutto c'è la barba ti inquadri da qua sotto non lo so quanti anni mi dai meno meno garantito tra i 25 26 27 anni se chi me ne ha dati 40 ne tengo 23 23 vedi vedi tu pensa che io ti ho dato dai 25 ai 30 solo per la barba ma di faccia si vede che non ce ne hai si vede che non ce ne hai chi ti ha dato 40 un ragazzino vabbè un ragazzino magari non sa neanche vedere vabbè però che significa tu ti senti vecchio qual è il problema ma no no non è che mi sento vecchio è che sai cosa quando ti paragonano a a un allora dentro sono carico a molla eh lo vedo a fuori ti dicono sembri un quarantenne ti dico ma te l'ha detto un ragazzino e tu prendi il giudizio di un ragazzino e te lo porti tutto il periodo no ma perché sono uno che pensa senti il buon salvo è bello il nome come ti presenti a me lo sai che mi dicono però in realtà un po' hanno anche ragione a Rocco stai invecchiato sei vecchio vattene a casa hai rotto il cazzo ma me lo dicono dalla mattina alla sera però non è che io non penso di essere di iniziare a invecchiare lo sento quindi è una certezza però non significa che devo decidere di vivere come gli altri vorrebbero che tu vorrebbero cioè io continuo la mia vita se riesco se riesco a fare tutto quello che ho sempre fatto perché devo dargli un'età quindi che cazzo significa il fatto che tu gli dai un'età tu devi vivere la tua vita c'hai 23 anni cazzo c'è tutto davanti tu sei come gli altri io poi devo ringraziare persone come te e e Marena che comunque ho scoperto lati di me che non conoscevo a livello sessuale come può essere cioè con la mia compagna come può essere i giochi i sex toys i vestitini il voler sperimentare bravo come voi che secondo me dovreste andare nelle scuole e insegnare proprio l'arte del sesso educazione sessuale esatto ma perché secondo me se le insegni fin da piccolo puoi avere già diciamo precauzione di quello che succederà in futuro bravo bravo però sai cosa succede dopo che non ci saranno più quei personaggi che si bloccano con Malena quindi dopo lei sarà spiegato bravo da Stetik tu sei un grande perché lo sai stanno delle persone anche i genitori insegnano l'educazione no lo sai si si ho capito noi scherzo da Stetik Monsalvo tu devi sapere che io e Malena continueremo imperterriti questa crociata ma solo ed esclusivamente per un motivo perché noi facciamo quello che poi in realtà diciamo la verità piace a tutti quindi alla fine non è che facciamo chissà che però lo facciamo senza crearci troppi problemi tu guarda se mi conosci conosci un po' la mia struttura qua a fianco c'è Lorenzo che è mio figlio di là c'è mia moglie che ci ascolta all'altro lato ogni tanto qualche parente oramai hanno capito che come dici tu il sesso è normalità e ti dico la verità ti dico la verità come diceva da Stetik ogni tanto questa normalità deve diventare anormalità se noi abbiamo sempre qualcuno che non si vuole trombare Malena e noi dobbiamo cercare di tenerlo qualcuno lì che si spaventa se no diventa tutta normalità e non si arrabba più nessuno no la verità la verità è quello che dici è importantissimo non è che dobbiamo andare noi a scuola ti ringrazio però già se lo fa qualche qualcuno a scuola non sarebbe male no? infatti è molto poco l'istruzione a livello sessuale nelle scuole purtroppo ti insegnano sì gli organi genitali ma poi lo sai perché? ma secondo me perché si vergognano loro stessi a parlare di sessi no ma perché il lato femminile che qui sono l'unica donna in questa chat in questa live per quanto riguarda il lato femminile in Italia c'è un solo problema che non viene insegnato alle ragazze che si può far sesso anche solo per piacere e invece si insegna che bisogna far sesso quando si è innamorata non è così come l'uomo può fare un altro po' anche la donna stessera decide di farsi solo una scopata e vederci vero concordo pienamente eh lo so questa è una mia battaglia personale da donna perché mi dispiace che le donne si debbano sentire giudicate soltanto perché stasera hanno conosciuto un uomo hanno poco la mentalità retrologa rientra eh lo so ma ci viene insegnato da bambini ma infatti è un problema di materia a scuola da insegnare secondo il mio punto di vista una cosa culturale che c'è no no è una cosa culturale fidati è un tabù che c'è poi anche a livello di coerenza magari una ragazza dice no ma io capitato penso che a un po' a tutti qui è capitato che magari conosce una ragazza la conosce una sera due sere e parlando viene si parla comunque della sessualità no del sesso e ti dice no ma io tranquilla più che altro più che altro un'osservazione ma io queste certe cose così non le faccio la prima sera la seconda sera e dico scusa ma che male c'è se tu vuoi fare una cosa perché ti vuoi divertire e io sono consapevole e anche io mi voglio divertire qual è il problema solo che dopo anche se dici io non faccio certe cose la prima sera però già la seconda sera ha fatto tutto ma perché infatti non parlarne già della prima sera io lo dico un'orgetta perché no scusatemi lo ammetto lo ammetto no ragazzi perché è arrapante darvela la seconda sera o la terza sera o la quarta sera ve la dovete sudare no in realtà sono d'accordo molto d'accordo anche se a Bari si dice che la figa è come la precedenza va data a Bari si dice così Ruggero è vero Ruggero è vero che si dice così a Bari mi piace questa mentalità Ruggero è vero è vero si dice così Ruggero è vero si 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 dice pure a Ortona però a Ortona non si è mai detto non si è mai detto a Ortona no vabbè Giuseppe a Bologna lo dicono Giuseppe a Bologna si dice si si dice ogni tanto però diciamo che sono molto bolognese perché sono nato a Catania ah anche tu sei di Catania grazie ma è catanese si siamo catanese però da quando sono piccolo siamo saliti qui a Bologna per il lavorativo di mio padre che lavorava e tutto ma Lena se guardi negli occhi fisso negli occhi di a nome 71 sta dormendo fa finta di seguirci no ma è bloccato è bloccato stava dritto dritto faceva ogni tanto non c'era una respirata eh guarda una delle cose che bisogna fare sempre guardare negli occhi la propria donna o comunque le donne altrimenti no hai ragione hai perfettamente loro vanno a guardare un altro hai perfettamente ragione però ho scelto l'occhialio lo tengo fino alla fine lo tengo fino alla fine mi devo togliere gli occhiali no veramente Malena Malena mi devi fare un favore Malena mi devi fare un favore dobbiamo assolutamente portare a nome a Budapest io devo vederlo in action con te per forza ma io lo farei volentieri lo fai lo farei con lei lo farei sì io so guarda io devo girare la scena fra voi due secondo me è storica guarda secondo me è storica è storica sarà storica lui dorme vediamo dai come vai il cast vediamo c'è Racco ti sta proponendo una scena da solo con me vediamo no l'accetto l'accetto no ma l'accetto c'è tutta la procedura scusami sono entusiasta io ho degli orari ho degli orari un po' leggermente variabili modificati ho un jet lag un po' diverso scusatemi senza problemi eh ho degli orari che sono un po' diversi da questi delle dirette le ho viste in youtube e tre ore mi chiedevo riuscirò a farla posso fargli una domanda sincera a nome posso farti una domanda sincera dimmi dimmi scusa la domanda sincera la risposta per essere sincera ti sei mai masturbato su un film di Malena ne ho visti ne ho visti due no la risposta ve la do sincera no perché era una era una gang bang non ti piacciono le gang bang vabbè è proprio bella 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 l'ho guardato perché io per entrare qui ho completato la procedura entrando in diretta dicevo all'inizio di che ho visto due o tre video di youtube e quindi ieri nella chat che ci ha permesso di entrare qui mi hanno hanno introdotto un tuo link e l'ho guardato ma era una gang bang era una bella gang bang ma non è un genere che io di solito guardo qual è il genere che ti piace? la stessa domanda in mente anch'io a questo punto preferisco ma io preferisco generico la trama anche di qualche anno fa ho visto addirittura film in bianco e nero storici di questo tipo le gang bang non mi entusiasmano perché manca la scenografia per quello la mia opinione cioè non c'è una scenografia o un costume però è stata una bella gang bang le persone erano molto molto reali molto persone come noi diciamo e ho visto solo quel film la storia secondo me è una gang bang dell'academy dell'academy secondo me era un'academy credo credo che era la gang bang dell'academy sì una gang bang finale ho visto solo questo tuo film ma approfondirò ne cercherò altri nei prossimi giorni volentieri allora guarda vatti a vedere se vuoi un film con la trama Game of War che è uscito quest'anno oppure Zawadi ma i Zawadi sempre con Malena e sono hanno un po' di trama dai non hanno la trama quella che piace a te lunghissima no ma va bene infatti dopo una cosa noiosa tipo film come Balla con i Lupi che era un film che durava 4-5 ore io quello l'ho visto e probabilmente mi sono calibrato su film lunghissimi e noiosi comunque ti confermo Rocco che My Name is Zawadi l'ho vista perché seguivo un po' così le comunicazioni e nei social network la tua pagina official che inizia col tuo video che dici no io ho capito l'unico account ufficiale è questo e ci sono proprio gli ultimi due video inseriti di questa My Name is Zawadi quindi ricorderò come vedere Malena dentro un film lo garantisco ma il film l'hai visto Zawadi no ho visto le tue interviste con lei che spiegavi che è una brava attrice così io mi fermo a seguire diciamo nei motori di ricerca o anche nei social network però ogni tanto ho un po' di tempo di guardare i video grande questa diciamo è la mia come io uso internet eh lo usi molto bene lo usi molto bene ti soffermi solo su cose che ti piacciono bravo 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 però vi dico solo eh no vi dico solo una cosa in conclusione come quei programmi televisivi che presentano il libro io ho scritto un libro e sto usando internet perché dovrei pubblicizzare il mio libro diciamo nel frattempo fallo pure come si chiama il tuo libro e com'è il titolo qual è il titolo allora lo dico il titolo è un libro storico Tao Te Ching ex Tao Te Ching dal 1958 è un libro storico cinese che io ho tradotto con un dizionario e forse è per questo che ho dei tempi diciamo un po' lunghi anche per seguire i film e ho tradotto con un dizionario questo libro però ce ne sono alcune traduzioni nel mondo ma è un libro importante io credo e devo riuscire a pubblicizzare questo libro di cui io ne guadagno una cifra minima non ho un guadagno e quindi cercando di vi faccio il riassunto completo intanto che ci sono cercando di pubblicizzare questo libro già dal 2011 poi vedendo tanti contenuti diciamo pornografici gratuiti anche nei motori di ricerca poi mi sono fatto una cultura parallela e ho notato allora questi film con le trame o anche addirittura in bianco e nero mi ricordo dove c'erano e quindi cerco di usare internet consapevolmente evitando di perdermi magari ore nella pornografia e quindi scelgo Ruggero è svenuto no si è tormentato si è tormentato vediamo un po' di persone qua che stavano lì per dormire io purtroppo questi ritmi vabbè abbiamo capito che insomma stai cercando di vendere questo libro dal 2011 ma vendolo più che vendolo dovrei introdurlo perché è un argomento importante ma dallo a Malena te lo introduce lei dove lo devi introdurre dove lo vuoi introdurre no dove lo vuoi introdurre rispondo lo dovrei lo vorrei introdurre nei mass media diciamo questo è l'obiettivo perché l'argomento c'è però io non posso andare per dire in Rai o non so dove all'ONU a presentare un libro ho fatto io lo so io ho l'idea ho l'idea vieni all'accademia portati il libro e mentre stai facendo sessanale con Malena mentre fai sessanale io ti inquadro il libro però voglio vedere il cazzo duro tu lo devi girare mi giri le pagine è tutta pubblicità con Malena come rende importante un libro porca miseria eh vi ho spiegato che cos'ho nella mente perché mi vedevate assonnato stavo magari pensando ancora qualche traduzione stagli pensando a tutte queste cose no sei figo sei una persona molto no sei divertente mi ricordi un po' 13 mi ricordi un po' mi ricordi un po' ah l'ho visto 13 lo conosce l'hai visto 13 ho visto la diretta precedente a questa e sì mi ricordo che presentavi questo ragazzo che era nell'accademia è estremamente preparato lui è molto preparato e come vedo anche tu è molto intelligente devo dirti con una sorta di english un po' questa cadenza dello stile inglese come te che hai questa calma nel parlare però molto ironica sei molto ironico ogni volta che parli è divertente è sicuramente un un personaggio che serve nell'accademia per forza io farò il possibile per cercare di venire organizzando un viaggio o cercando di capire perché in conclusione cercando di usare internet consapevolmente devo capire tutto quello che sto seguendo quindi se riuscirò a capire come arrivare a Budapest ma io ci vorrei ma guarda è facile prendi un aereo e arrivi se vieni il discorso dell'accademia sarà ancora più semplice bisogna mandare un curriculum e verrai se c'è Malena tu Budapest vengo subito è il libro è il libro il libro non lo dimenticate il libro e vi confermo che la mia opinione di Malena è molto positiva approfondirò il video con My name is Zawadi che almeno vedo qualcosa di diverso volentieri con un po' di entusiasmo però non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho l'entusiasmo ultimamente devo stare molto diciamo lucido su su tante cose no ma comunque va bene dai è anche un'ora abbastanza tardi per me quindi sembra ma a che ora vai a dormire di solito tu non capire è un'ora che dici no ma adesso no ma vi rispondo senza entrare troppo nei dettagli no ve la dico breve siccome io mi medesimo molto in queste scenografie che preferisco nei film ho voluto cercare di capire diciamo come Basic Instinct quando c'era Sharon Stone che scavallava le gambe non era una psicologa o qualcosa del genere se non ricordo male allora durante durante il coronavirus ho contattato c'era la mia dottoressa di base che ho scelto una donna perché le donne mi rilassano di più ho contattato un centro di psicologia e mi hanno dato una ragazza dell'età di malena circa che mi ha fatto capire che devo andare a letto presto la notte e non stare sveglio magari fino alle 4 di mattina quindi purtroppo ho gli orari calibrati leggermente su un jet lag a nome allora io ti dico subito mollaci corri a nanna perché se no rischi si addormentano tutti qua corri di corsa ti saluto l'ora no sto scherzando ti saluto no sto scherzando resta con noi resta con noi perché abbiamo 10 minuti e chiudiamo la diretta la diretta ok resta con noi dai oramai se posso no ma ci sono mi sono preoccupato vai mi ero perso mi ero perso qualcosa scusatemi per l'academy dove bisogna scrivere o comunque presentarsi allora abbiamo una mail lori mi ridai la mail ok registrazione hard academy se tu vai su internet academy.com troverai la mail sotto contatti registrazione hard academy chiocciola gmail.com ok all'inizio della live ci sono due academy c'è quella televisiva che viene fatta e selezionata a Roma studi de paulis e se covid permettendo succederà tutto questo tra marzo e aprile se invece per qualche motivo c'è il problema del covid purtroppo noi siamo anche noi dietro tutto questo cataclisma di problemi che purtroppo stiamo passando tutti altrimenti c'è anche un'altra academy se non vieni selezionato lì ed è un academy semplicemente la continuità di quello che facevamo con Gabriele con mio cugino è un academy prodotta da noi dalla Rocco Siffredi Produzioni ma devi comunque mandare un curriculum dalle foto dove noi scegliamo e vi contattiamo e vi diamo dei periodi facciamo tipo ok curriculum curriculum per me significa capire chi viene giù chi verrà a Budapest vedere delle foto una lettra di presentazione si le foto se parli inglese se non lo parli perché ragazzi ecco questa è una è qualcosa che non abbiamo detto tutta la sera ma voi avete a che fare con ragazze che non parlano l'italiano a parte Malena e se c'è qualche italiana ma nella continuità se del lavoro decidete di senza l'inglese non riuscite neanche a fare due passi tanto le parole più importanti in inglese sono quelle le parolacce le cose Malena Malena ve lo potete perché Malena come nonostante hai a che fare voglio dire con uomini quindi tu sei donna però stress si sente uguale non potete comunicare no esatto cioè dovete sempre essere in una posizione in cui dovete essere al massimo del relax cioè niente deve essere di impedimento in questo caso la lingua anche per comunicare con l'attrice magari l'attrice vi deve dire un attimino che c'è qualcosa che non va dovete capirla per forza e le attrici sicuramente non sono italiane questo è poco ma sicuro Jok ci chiede Malena è girato con Mike Angelo ma The Game of Four ha fatto una scena fantastica Malena con Mike fantastica ti ricordi che scena pazzesca tanto 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 bella 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 fantastic fantastic lo sai dove vai ragazzi posso fare un'ultima domanda poi semmai li posso anche lasciare tranquilli per entrambi ma qual è la scena peggiore o comunque col collaboratore peggiore senza che far nomi che avete avuto negli ultimi anni o qual è peggiore in assoluto ma forse Malena ha qualche idea no allora a me è capitata una scena in cui l'attore proprio aveva difficoltà nel funzionare e vi garantisco che per quanto io sia paziente però poi arriva il momento che è un po' cioè anche ti scocci perché se passa un'ora due ore cioè vuol dire che non puoi fare questo lavoro non ti presentare come attore per sentirti come altro oppure mi è capitato una volta in cui l'attore è svenuto perché comunque non sapevo come gestire la cosa ero sul set della Pinco e il ragazzo aveva sbagliato qualche dosaggio non so ma ha detto aspetta un attimo se è seduto ed è svenuto infatti non mi ricordavo io di sta storia sul set ancora non capivo della Pinco è un attore tra l'altro anche abbastanza conosciuto però non so aia aia e non facciamo nomi aia aia era che aveva sicuramente sbagliato qualche nel calibrare qualche cosa ed è svenuto e quindi io sono entrata nel panico perché ma come la situazione e io mi sono trovata imbarazzata perché comunque la scena deve continuare perché c'è chi ha comunque investito dei soldi cioè il produttore però lui stava veramente ho capito se sta aia penso morto ma io non concepisco questa cosa non la concepisco eh lo so però purtroppo quando si usano delle sostanze estranee per l'eccitazione può capitare anche questo e in quel caso il ragazzo è venuto Malena solo se vuoi confermare qui ci sono un po' di nomi che dicono era Nando Colelli Nando Colelli no no non ho lavorato ragazzi Nando Colelli non ho lavorato Nando Colelli è quello che ha fatto il grande fratello per iniziare è l'unico attore e ve lo posso garantire italiano porno che io non ho mai visto con l'uccello moscio e mai prendere punture punturine è l'unico attore italiano lo ripeto della nuova generazione che non ho mai visto avere problemi Nando quindi va sicuro che non era lui e poi a Nando gli piace molto la patata non credo che sviene no 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 mi è capitato mi è dispiace appunto per l'attore perché comunque la situazione era veramente imbarazzante veramente poi mi sono preoccupata anche comunque uno che sviene si cazzo poi ci sono stati un caso in particolare in cui proprio non c'era verso di farlo funzionare qualsiasi cosa io provassi però secondo me è perché in me rivedeva Rocco adrenalina 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 ragazzi adrenalina no ma questo qui magari forse magari è successo perché era la loro prima volta magari sul set io non posso parlare perché parla Malena però va sicuro che non era la prima volta sul set no no non era la prima volta lui dice di essere un grande attore però io posso garantire che in quell'occasione con me è entrato in piena crisi ma sono convinta perché lui me appunto rivedeva Rocco cioè vedeva in Malena l'immagine di Rocco e quindi è andato ha visto Rocco e è morto però io da professionista sono stata cinque ore e la scena l'ho portata a casa e c'è cinque ore eh ragazzi però una professionista è un professionista sa che dall'altra parte c'è chi ha investito dei soldi e quindi devi avere anche un senso di responsabilità una delle cose che diceva sempre Gabriele ragazzi dell'Accademy era questa pensate come se i soldi per quel film li avete messi voi pensate questo giusto Max Granella Max Granella e quindi comunque la scena è stata però non è stato semplice per niente per me per niente per te Rocco invece ma per me ci sono stati tanti momenti molto complicati uno di questi che dice Malena mi succede ogni volta che lavoro con un attore nuovo anche se è un professionista ogni volta ogni volta hanno dei problemi con me ma anche Malena ci si è trovata con questi ragazzi davanti a me perché soffrono del fatto che lo devono fare davanti a me hanno paura del giudizio però ti dico la verità un vero pro ecco eravamo a Los Angeles prima volta che giro James Dean era addirittura con Valentina Nappi e mi ricordo la scena insieme James Dean si era fumato 15 sigarette ed appena è arrivato dovevamo ancora girare e poi mi fa la classica battuta che fanno quasi tutti mi sono masturbato fino a ieri con i tuoi film e ora mi ti ritrovo qua davanti e questa è la parte di stress però James Dean era stressato io ho detto a mio cugino questo oggi non funzionerà sono sicuro anche a Valentina ho detto vacci tranquilla dopo 5 minuti che Valentina insomma se lo succhiava lo vedevo con un po' di difficoltà appena è riuscito a eliminare il problema dell'adrenalina quello che vi dicevo all'inizio è partito come una bestia e tutte le scene che mi ha fatto dopo una più bella dell'altra questo è un vero attore porno un vero professionista sì io ho fatto lo stesso quello che ha fatto James Dean la prima volta che mi sono trovato davanti a John Leslie la prima volta che mi sono trovato davanti a Alex Terenzi tutta persona che per noi sono inesistenti però erano i grandi nomi dell'epoca quindi voglio dire lavorare davanti a una persona che tu hai avuto una sei cresciuto anche perché lo vedevi ti seghavi era lì faceva tutti i ruoli poi te lo ritrovi davanti un po' ti dà quello stress però ragazzi lo stress dura qualche ora o può durare una scena che devi trovare il feeling dopodiché deve partire perché se non parte vuol dire che non sei non hai le basi non sei consistente questo fa un attore professionista da uno non professionista non esiste Malena la star esiste la donna che è davanti a te quindi Malena è la star dopodiché tu la annulli e dici una donna come le altre riuscirò a farmi anche questa ragazza qui se invece tu ti fai fregare ciao è anche rispettoso cosa? come cosa è anche rispettoso come cosa quello che stai dicendo allora ci sono due storie che devi sapere A è l'unica versione perché se tu Malena non te la fai e svieni e non fai una bella performance tu non lavori più perché non è solo Malena e ti sei giocato la carriera perché ricordate io lo dico sempre purtroppo in questo lavoro non si ricordano le mille scene da paura che fai si ricordano solo quando non ti tira l'uccello e non ce la fai è così purtroppo è purtroppo un mestiere del cazzo perché è così quindi non c'è la scusa del tipo ah scusa oggi non mi sentivo bene magari non ti sentivi per davvero bene ma non esiste lo devi fare lo devi fare lo devi fare quindi è così ragazzi funziona così guardate che funziona veramente così anche per le donne non tutte le donne la mattina si svegliano e stanno in forma però non stanno in forma e poi si fanno venire la forma perché bisogna giusto o no? ma lei non mi sbaglio no no è giusto perché magari uno può avere anche non lo so un piccolo problemino il segreto è proprio quello c'è annullare tutto quello che c'è intorno tutto 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 completamente anche che ne so può capitare un mal di pancia ok però bisogna annullare tutto completamente completamente io vi dico solo un consiglio ma è la vita non è il porno quando si abitua alle scuse si trova sempre la scusa ogni volta poi e non si cresce e per tutto non si cresce nulla nella vita devo dirvi che il porno a me mi ha insegnato a tutte le cose nella vita che poi sono arrivate difficili o decisionali o problematiche a dire ce la posso fare anche stavolta ce la posso fare anche stavolta e pensate che tutto ciò è iniziato col guardare il mio uccello che non voleva venire su e dire riguardare la figa e dire ma com'è una volta una volta impazzivi per quella adesso che c'è non ti piace più guarda caso riveniva su e riusciva a fare la scena e da lì ho capito che è tutto di testa è tutto di non voler mai dire non ce la faccio è psicologico solo ragazzi è solo è psicologico scusatemi mi si sta spegnendo mi si sta spegnendo il telefono entro 39 secondi io vi devo salutare a nome è mezzanotte fra 39 secondi mi raccomando fammi un favore 10 secondi vatti a fare subito un seconde su Malena adesso ti prego vai su internet un seconde e lascia perdere la trama sbattite nel cazzo la trama la trama è quello che hai visto stasera e parti subito con un seconde pensa che Malena adesso inizia a succhiartelo penso solo a questo Malena io stai penso che Malena no penso che Malena mi abbia conosciuto e dovrebbe essere già sufficiente per riuscirci giusto grande grande dai vi saluto perché credo che ci stia spegnendo ragazzi io vi saluto a tutti Malena un bacione grande 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 Witerman sei tornato purtroppo vi salutiamo in mezzanotte troppo saluto grazie ragazzi allora Alessio ciao Medeo Gabriele Giuseppe L'Astetic Ruggero il buon salvo Witerman Malena un bacione grande 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 dove ti posso contattare Malena da Astetic da Astetic dove ti contatto Instagram volevo chiederlo io Instagram Instagram vai Instagram ciao 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 un bacio grazie ciao